Buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima giornata di Ecost, questo laboratorio dal basso che presenterà da oggi nuove forme di turismo sostenibile e co-compatibile, nuove forme di impresa innovativa nel settore turistico che possano essere delle linee guide e pratiche per lo sviluppo turistico e imprenditoriale qui in Puglia. Prima di cominciare vorrei semplicemente darvi accenno a come è nata questa iniziativa e al percorso che ha portato me, Marilena e Francesco a organizzare gli eventi di questo laboratorio. Il nostro obiettivo comune, il nostro punto di partenza è ovviamente la sensibilizzazione per la valorizzazione del territorio pugliese e del turismo nella regione attraverso queste nuove forme. A me personalmente ha sempre affascinato il rapporto fra il nostro territorio e l'ambiente internazionale, riuscire ad attirare l'attenzione sulla Puglia e sulle sue immense bellezze. Dato che ho vissuto spesso all'estero, comunque in contesti lontani da quelli pugliesi e ho viaggiato parecchio, mi ha sempre affascinato la possibilità di realizzare un ostello in Puglia che avesse la possibilità di mettere insieme e di permettere le interazioni fra la gente del posto e i turisti internazionali. Quindi la mia idea era quella di coinvolgere i ragazzi che saranno presenti domani dello Stello Bello, ma ovviamente era qualcosa di troppo limitato. Lo sviluppo turistico pugliese e il suo territorio presentano infinite potenzialità. E lungo il cammino ho incrociato questi altri due grandi professionisti che sono qui a mio fianco, partendo proprio da The Hub, dove ho avuto la possibilità di conoscere Francesco in quanto le nostre attività professionali, pur nelle loro differenze, hanno a che fare appunto con il turismo e con lo sviluppo del territorio in Puglia. Quindi prima c'è stato il dialogo fra me e Francesco sulla possibilità di chiamare, di far partecipare relatori che potessero spiegare quali sono le modalità di turismo ecocompatibile e turismo sostenibile. Qui la presenza stamattina di un rappresentante dell'ITR e di Angelica Vignola, che mi sfugge dell'associazione di cui lei fa parte, di ICEA, i quali relazioneranno oggi sulle certificazioni ambientali, sul turismo ecocompatibile, sulla sostenibilità, sulla possibilità di permettere il turismo a persone che hanno disabilità, in modo da permettere un'apertura la più ampia possibile a tutti gli utenti sul territorio pugliese ovviamente, ma in realtà questo è quello che loro già propongono su tutto il territorio nazionale e anche il turismo internazionale ovviamente. Lungo il cammino però abbiamo avuto qualche difficoltà, nel senso che burocraticamente diciamo Laboratori Dal Basso prevede la richiesta ufficiale da parte di un'associazione o di un'impresa e al momento io e Francesco, che siamo vincitori dell'ultima edizione di Principi Attivi ma non avevamo ancora la possibilità di aprire la nostra entità giuridica, abbiamo incrociato Marilena, grazie a una mia call sul sito di Laboratori Dal Basso, la quale ci ha fatto presente un altro mondo del turismo importante per lo sviluppo in Puglia, il campeggio, può sembrare qualcosa di scontato, sappiamo tutti cosa è il campeggio ma in realtà ignoriamo, almeno io lo ignoravo, non so Francesco, io di sicuro lo ignoravo, che ci sono anche lì nuove forme di campeggio, anche forme parecchio lussuose diciamo così, la formula del glamping che verrà illustrata la settimana prossima giovedì o venerdì, mentre giovedì avremo l'eco camping. Sono tutte modalità nuove di concepire una modalità tradizionale qual è quella del campeggio, come del resto sarà domani per l'ostello. Quindi diciamo attraverso il nostro incontro e attraverso riunioni che abbiamo fatto di hub, riunioni tramite Skype, ognuno di noi ha cercato di coinvolgere il più ampio numero di relatori possibili, alcuni di quali purtroppo non siamo riusciti a raggiungere, ma siamo molto contenti delle persone che siamo riusciti a convocare, a presentare qua a Bari e il contributo di ognuno di noi tra è stato fondamentale nella divisione di compiti, sebbene ufficialmente io sia il project manager e Marilena faccia parte dell'associazione di riferimento, oltre che per la sua attività professionale, poi magari lei vi dirà qualcosa. Quindi diciamo questa è una sorta di mia presentazione generale per illustrare il modo in cui questo laboratorio è venuto fuori e per far capire appunto già da questa organizzazione come le modalità del co-working e dell'interazione, del diciamo aiuto reciproco, ma forse aiuto non è la parola giusta, ma al momento non me ne viene in mente un'altra migliore, la collaborazione diciamo così fra tre professionisti motivati dalla volontà di migliorare lo spirito imprenditoriale qui in Puglia, di fare formazione di alto livello, di favorire non ultimo gli incontri fra professionisti, utenti, semplici appassionati di settore che possano magari condividere i stessi interessi per le stesse tematiche e possano collaborare insieme per realizzare un progetto comune in futuro, anche semplicemente per conoscerci, questa ci è sembrata in partenza un'opportunità fantastica che la regione, l'Arti ovviamente ha messo a disposizione dei giovani pugliesi, quindi questa diciamo è la mia presentazione di tutto, di tutte le giornate, delle iniziative, dello spirito del corso, adesso passo la parola a Francesco che vi darà qualche cenno, e Marilena che si presenterà, insomma lascio spazio anche loro due, che vi parleranno adesso di quello di cui loro si sono occupate più nello specifico e poi in particolare della giornata di stamattina. Grazie e buon laboratorio a tutti. Bene, io vi do anche il benvenuto, io mi chiamo Marilena Lucivero e sono architetto e vi ospito insomma nella duplice veste, come diceva Giuseppe, di presidente dell'associazione Apulia Slow, che si occupa di promuovere i temi della lentezza, della decrescita applicati soprattutto alla questione della valorizzazione del territorio. Vi invito dopo magari a prendere una cartolina che illustra un progetto che stiamo promuovendo in questi giorni, in quanto quest'estate effettueremo il tour di tutta la costa pugliese in pedalò, in modo da raccontare e tutto questo viaggio confluirà in un documentario, un videodocumentario che illustrerà lo stato della costa, quindi vedremo la Puglia da una prospettiva diversa, attraversandola in maniera lenta e racconteremo vari episodi che incontreremo. E vi invito anche a partecipare perché stiamo raccogliendo in questi giorni le testimonianze di persone che hanno qualcosa da raccontarci, che ospiteremo a bordo del nostro pedalò e le cui esperienze entreranno nel documentario finale. Vi dicevo che rappresento una duplice veste perché oltre ad essere presidente di Apulia Slow sono anche titolare dello studio DMM Studio, che è una piattaforma di progettazione architettonica a Molfetta e noi ci stiamo occupando, oltre che delle varie questioni legate alla pratica professionale, di promuovere, come diceva Giuseppe, il turismo all'aria aperta e quindi le strutture ricettive turistiche all'aria aperta, nello specifico quelle che comunemente chiamiamo campeggi, poiché siamo sicuri che in un territorio come quello pugliese, in cui abbiamo un paesaggio dalle grandi potenzialità e dalle grandi qualità, il turismo all'aria aperta possa essere un elemento strategico per coniugare la tutela del territorio e la sua fruizione turistica. La prossima settimana, nello specifico le giornate del giovedì e del venerdì saranno dedicate a questo tema. Nella giornata del giovedì ospiteremo le responsabili di un progetto che si chiama Eco Camp, che è stato promosso a Senigallia, dal comune di Senigallia. Lungo il litorale di Senigallia esistevano tutta una serie di piccoli campeggi che erano organizzati in maniera tradizionale, quindi in maniera molto intensiva, quindi si è deciso di unirli in un'unica grande struttura ricettiva, un unico grande campeggio che avesse le caratteristiche tali da poter ottenere, oltre alla certificazione ambientale Eco Label, tutta una serie di innovazioni dal punto di vista di gestione ambientale e che potesse diventare un'opportunità economica per i piccoli operatori della zona e anche un'opportunità per la cittadinanza, poiché questo ha consentito di liberare tutta una serie di terreni e di riqualificare anche tutto quanto il fronte mare cittadino. Quindi giovedì ci presenteranno questo caso, questo interessante caso di studio, sotto due aspetti. Uno sotto l'aspetto più legato alla progettazione dell'insediamento turistico e poi nel giovedì pomeriggio ci illustreranno tutti quanti i criteri che una struttura ricettiva tipo campeggio deve avere per ottenere le certificazioni ambientali. Quindi sarà molto interessante soprattutto per gli operatori già attivi nel settore e per coloro che invece vogliono iniziare un'attività ex novo. Mentre il prossimo venerdì ospiteremo l'amministratore delegato ed uno dei progettisti di GH Gruppo che è un'impresa turistica che ha sede a Bologna e che si occupa da un lato di effettuare studi sull'economia turistica e dall'altra di effettuare degli investimenti per conto di comitenti privati, l'hanno fatto anche qui in Puglia, per promuovere e per realizzare nuove forme turistiche molto legate alla questione della tutela del territorio. E nello specifico ci presenteranno questa nuova tipologia ricettiva all'aria aperta, il glamping, che deriva dall'unione delle parole glamour e camping. Quindi si tratta di campeggi che non determinano un impatto forte, definitivo sul territorio, ma sono caratterizzati da una serie di strutture leggere e amovibili che consentono di respirare a seconda della stagionalità durante l'anno, dell'incambio turistico che varia. E quindi ci presenteranno quali sono le difficoltà che stanno avendo per realizzare questa nuova forma di struttura ricettiva che invece in altre parti d'Europa stava avendo grande successo e che potrebbe essere una buona strategia turistica qui in Puglia proprio non soltanto per le strutture che già esistono in quanto campeggi, ma anche per esempio per aziende agrituristiche, per masserie che vogliono magari aumentare la propria capacità ricettiva in determinati periodi dell'anno, offrendo una tipologia ad alto standing perché il glamping offre, non dà la possibilità ai turisti di portare la propria tenda come succede normalmente nei campeggi, ma sono gli stessi gestori che prevedono una serie di strutture tipo grandi tende con elevati comfort per poter ospitare appunto delle persone che normalmente magari vanno nelle masserie, negli alloggi tradizionali, ma che in questo modo possono avere anche un contatto più diretto col paesaggio, quindi nella tutela dello stesso, quindi le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate a questo, insomma. Io passerei la parola a Francesco, ma è scomparso, passo... Ok, vai. Allora sì, buongiorno a tutti, io sono Alberto Ardito e sono il socio di Francesco del progetto turnelsud.com, che è un portale che principalmente si occupa di turismo ecosostenibile e di vacanze eco-friendly. Io in particolare mi occupo della parte informatica, quindi diciamo che poi Francesco vi racconterà nel merito i contenuti del portale. Da un punto di vista tecnico vi posso dire che attualmente c'è online la prima versione del sito, che appunto si occupa esclusivamente di contenuti informativi. Parallelamente a questa stiamo curando un blog, ormai da circa un anno, che invece si occupa di tutte le aggiornamenti inerenti al nostro concept e che quindi è molto attivo sotto questo punto di vista e che abbiamo curato parecchio nell'ultimo periodo. Parallelamente abbiamo sviluppato la nuova piattaforma che invece, oltre ad avere dei contenuti informativi, ha la possibilità di, attraverso una piattaforma e-commerce, di appunto prenotare dei prodotti, quale menu o quali prenotazioni nelle strutture ricettive che soddisfano i nostri requisiti, di cui poi vi parlerà Francesco, e che quindi va a completare un iter iniziato più di un anno fa e che ci ha visto appunto vincitori del bando principi attivi. Salve a tutti, io sono Francesco e lui è il mio socio collaboratore Alberto. Lui si occupa di ingegneria informatica e io invece sono esperto di turismo, sono direttore tecnico dell'Agenzia Viaggi, ho avuto diverse esperienze in ambito turistico all'estero però, soprattutto in Germania. Da più di un anno cerchiamo di introdurre questo concetto di turismo sostenibile che è un po' diverso dal concetto di ecoturismo. Per turismo sostenibile, almeno, sul modello più teresco, anglosassole, abbiamo cercato di creare questo progetto che inducesse i visitatori e quindi i turisti, quindi orientasse la scelta di turisti e visitatori a dei servizi turistici che siano più sostenibili, quindi a basso impatto ambientale. Cosa intendiamo per servizi turistici a basso impatto ambientale? Appunto, come introduceva Alberto, la scelta di strutture ricettive che sposino appunto dei requisiti di sostenibilità ambientale, quindi a marchio Ecolabel o ICEA appunto, la scelta di anche menù e quindi dei prodotti gastronomici che siano comunque prodotti in loco e siano insomma tutto sommato chilometro zero, anche se per chilometro zero intendiamo comunque prodotti locali che da Bari provengono dal Gargano o dal Salento comunque inerenti a quello che si produce in Puglia, tanto da uno valorizzare appunto la tipicità che all'estero ci è invidiata e due anche per creare un indotto economico, visto che la produzione appunto agricola è quella degli allevatori, dei produttori locali, ha bisogno appunto di un riconoscimento anche dal turista che viene appunto a cercare la tipicità che loro sono ormai esperti ad offrire. Attraverso il nostro portale, che sarà poi attivo tutto per tutto da maggio-giugno, saremo in grado di offrire e quindi di orientare la scelta dei visitatori anche per le attività che siano diverse poi da quelle che sono associate ad un turismo più balneare, a delle attività più sostenibili e soprattutto che portino anche ad aumentare il flusso turistico nella bassa stagione o nella media stagione. Il primo problema appunto dell'incambio turistico pugliese è quello della stagionalità, ci abbiamo dei picchi e delle presenze turistiche importanti a luglio, agosto, giugno, ma neanche tanto giugno, mentre poi durante l'anno abbiamo la difficoltà di riempire camere e di soprattutto offrire delle attività che potremmo permetterci di offrire visto che comunque il clima da noi rispetto ad altre destinazioni turistiche è favorevole appunto a delle ciclo passeggiate, ciclo trekking, anche visite guidate dal punto di vista culturale e naturale e soprattutto anche itinerari con topic appunto la gastronomia nostra. Infatti la Puglia quest'anno è stata anche nominata destinazione turistica connessa agli itinerari del vino, una delle prime dieci al mondo perché comunque la nostra tradizione ci permette di offrire una varietà di vini e una qualità di vini molto importante. Abbiamo deciso di introdurre come servizio che finora qui non esiste la possibilità di offrire e quindi anche offrire da parte delle settore ricettive e proporsi da parte di visitatori più giovani la possibilità appunto di fare woofing, ovvero offrire una prestazione lavoro per un determinato periodo di tempo e in diverse ore della giornata al posto di un'accommodation o del vitto. Il woofing è una tendenza che comunque anche con la ridotta capacità, il ridotto budget che i turisti giovani in Europa hanno in questo periodo sta sempre prendendo piede, sta prendendo sempre più piede soprattutto nei paesi nordici. In Italia abbiamo anche l'Emilia Romagna e la Lombardia che già sono avanti nell'offerta di questo tipo di servizio. Quindi attraverso il portale ci sarà la possibilità delle strutture ricettive di offrire di offrire un periodo in cui si potranno fare, si potranno svolgere delle attività connesse alla raccolta delle olive piuttosto che della frutta o fare da cameriere in cambio di appunto un'accommodation e un pasto caldo. Ci sarà il noleggio bici che sarà un servizio offerto non da noi direttamente ma dagli operatori del settore in Puglia e mentre la parte inerente alle città, i punti di interesse e la gastronomia sono delle parti più istituzionali in cui stiamo creando dal basso anche, con l'aiuto anche di esperti in cultura pugliese e guide turistiche, un database utile al visitatore che ha intenzione appunto di venire a visitare la Puglia ancora prima di aver messo concretamente piede. Il sito sarà in tre lingue quindi il visitatore sarà in grado di avere tutte le informazioni utili, conoscere per esempio la città di Torre dell'Orso, Lecce, Otranto, quindi orientare, programmare la propria vacanza prima di mettere piede in Puglia. La parte dei luoghi di interesse è un database che stiamo pian piano costruendo e contiene appunto tutti i luoghi di interesse suddivisi in categorie arte e cultura, chiese e monumenti, parchi naturali ma anche zone balneari, con tutte le informazioni poi utili, le mappe che saranno poi utili alla geolocalizzazione e quindi a raggiungere tutti questi luoghi. Mentre il settore gastronomia, sempre una parte istituzionale, è connessa appunto a... contiene delle guide gastronomiche che poi danno la possibilità al visitatore di approfondire le informazioni, approfondire tutto quello che c'è da sapere riguardo alla produzione proprio tipica della cucina pugliese e raggiungere anche le sagre che durante l'anno poi avranno luogo in tutte le città della Puglia. La sezione eventi invece è una sezione che è connessa più... cioè è una sezione creata in collaborazione con le proloco locali che in collaborazione appunto con Tunnel Sud daranno... mano a mano cercheranno di inserire quante più informazioni possibili sugli eventi culturali e gastronomici, poi concerti, festival, ma anche sagre. Loro gradualmente inseriranno delle informazioni che poi verranno appunto illustrate nella categoria appunto degli eventi. Vediamo se si apre... chiaro, il singolo evento... questo... questa è la pagina... ricordo... come dicevamo prima, attraverso il blog che ormai è attivo da più di un anno l'attività di sensibilizzazione è già iniziata e infatti comunque stiamo ottenendo dei riscontri positivi da questo punto di vista considerando che i lettori nel giro di un anno sono comunque cresciuti a dismisura per noi questa attività di sensibilizzazione attraverso il blog forse è l'attività più importante in quanto attraverso l'informazione riusciamo appunto ad accrescere l'appeal nei confronti della Puglia e soprattutto cercare appunto di, non dico educare però, iniziare a lavorare ad una rete, ad un progetto di turismo di incoming più sostenibile anche grazie agli operatori già attivi sul territorio come ad esempio appunto le associazioni culturali che fanno già visite guidate di ciclotracking le guide turistiche, i produttori agricoli locali che comunque in questo ci aiutano a pubblicare dei contenuti sempre più aggiornati ed utili alla causa quindi accrescere l'appeal turistico della Puglia quale meta sostenibile in Italia e nel mondo grazie di tutto, adesso inizieremo con Sergio Fadini, grazie giusto per ricordarvi, noi abbiamo previsto di consegnare ai partecipanti un attestato di partecipazione però a condizione che si frequentino almeno il 70% delle lezioni previste nel laboratorio poi l'altra cosa, adesso lasciamo spazio a Sergio Fadini rappresentante di ITR che vi illustrerà in concreto che cosa significa, che cos'è il turismo responsabile attraverso le attività della sua associazione, quali potrebbero essere i legami con lo sviluppo turistico in Puglia grazie per l'attenzione e buona lezione grazie dell'invito, buongiorno a tutti due minuti di presentazione, io sono Sergio Fadini vengo da Matera, anche se in realtà sono napoletano mi occupo di turismo responsabile da molti anni ho anche io una piccola realtà che si muove nel sud Italia e fa appunto cose molto simili a quelle che abbiamo appena sentito e in particolare noi appunto ora facciamo parte dell'associazione italiana turismo responsabile e io insieme ad altri faccio parte del tavolo di formazione che appunto cerca un po' di promuovere il concetto di turismo responsabile il concetto di turismo responsabile come vedremo in questo nostro incontro è simile e diverso allo stesso tempo dal concetto di turismo sostenibile per cui sarà interessante appunto anche un po' parlarne e sentire anche la vostra opinione ovviamente in tre ore dovrò condensare molto diciamo quello che in genere facciamo in corsi che durano almeno tre giorni per cui andrò un po' diciamo così random su una serie di argomenti topici che riguardano il turismo responsabile l'associazione italiana turismo responsabile appunto che rappresento oggi ad oggi è un'associazione di secondo livello e c'è un centinaio di soci questi soci fanno turismo responsabile con modalità molto diverse le une dalle altre perché il concetto di turismo responsabile è un concetto molto vasto come vedremo e quindi ognuno poi lo caratterizza come meglio crede in base alla sensibilità propria e in base anche alla situazione locale 100 realtà che vanno dal tour operator associazioni culturali abbiamo anche realtà che non si occupano di viaggio da un punto di vista di vendita di viaggio ma ad esempio abbiamo case editrici abbiamo enti certificatori abbiamo tutta una serie quindi di realtà che a diverso titolo si interessano a questa tematica per capire un po' insomma cosa è il turismo responsabile in questa prima parte io dividerò l'intervento in due parti dobbiamo fare un po' un salto nel tempo e nei luoghi perché diciamo se capiamo un po' l'evoluzione che c'è stata nel turismo e poi quindi la nascita del turismo responsabile riusciamo anche a capire perché è nato questo concetto perché si è coniato se vogliamo un concetto anche diverso da quello di turismo sostenibile che è sicuramente molto più conosciuto così come quello di ecoturismo che sono quelli che vanno per la maggiore sono quelli che sicuramente si sono maggiormente affermati nel linguaggio turistico il turismo quello che conosciamo ne oggi quello di cui stiamo parlando quello che appunto già hanno iniziato a farci vedere con il sito gli amici di Tour nel Sud è un fenomeno ovviamente contemporaneo è un fenomeno contemporaneo legato ovviamente a tutta una serie di situazioni che si sono sviluppate all'epoca nelle società cosiddette occidentalizzate per cui il lavoro retribuito le ferie pagate tutta una serie quindi di migliorie che ci sono state diciamo nel tessuto sociale dal punto di vista economico hanno permesso diciamo lo svilupparsi di un turismo molto diverso dal passato tanto per intenderci il turismo contemporaneo quello di cui a cui noi oggi ci riferiamo nasce nell'ottocento fondamentalmente prima c'erano i viaggi quelli che noi in Italia conosciamo bene perché il Grand Tour erano questi viaggi diciamo degli aristocratici che venivano soprattutto nel Sud Italia a conoscere queste terre splendide ed era un'attività per pochi ovviamente poi con la nascita invece del turismo contemporaneo la situazione cambia molto e infatti abbiamo la nascita dei pacchetti di viaggio è curioso non so se conoscete un po' la genesi dei pacchetti di viaggio come è nata l'idea dei pacchetti di viaggio è molto bella perché Thomas Cook oggi uno dei più importanti diciamo tour operatoro al mondo era in realtà un ministro battista che si occupava di lotta all'alcolismo e quando furono inventati i treni pensò di appunto fare una gita facendo pagare una cifra simbolica a tutti per portare queste persone in giro e fargli uscire un po' dalla loro realtà diciamo quotidiana da questa idea che ebbe molto successo poi appunto Thomas Cook si è reso conto che questa attività poteva effettivamente anche essere un'attività che rendeva e quindi si è evoluta e sono nati i famosi pacchetti di viaggio quelli che poi sono stati come dire la colonna portante diciamo del turismo contemporaneo del secolo diciamo non che prima non esistessero anche già dei servizi turistici faccio un esempio proprio pugliese all'inizio del novecento Santa Cesarea Terme era una delle più importanti mete di turismo termale da un po' di statistiche appunto vediamo che era molto più avanti rispetto a realtà oggi molto più affermate come che ne sono Montecatini e Fiugi erano però singoli servizi col pacchetto turistico ovviamente entriamo in una nuova era entriamo in una nuova era si afferma l'idea che il tempo libero quindi può essere organizzato e quindi ci sono questi operatori che poi in tutto il mondo insomma sempre chiaramente riferendoci alle società occidentali iniziano a a operare cosa fanno questi operatori e qui diciamo viene un po' la parte se vogliamo più interessante perché se la genesi del turismo contemporaneo è una genesi molto democratica molto interessante se pensate al fatto che prima solo pochissimi potevano viaggiare e dopo diciamo almeno nelle società ripeto occidentali e oggi anche in altre realtà come Brasile e Cina diciamo le realtà economicamente emergenti erano pochi quelli che potevano permettersi di viaggiare dopo invece diventa un fenomeno di massa come tutti i fenomeni di massa ci possono essere dei problemi e fondamentalmente il fulcro del turismo responsabile il concetto di turismo responsabile nasce proprio per cercare di porre un po' rimedio ai problemi che sono sorti dove sono sorti questi problemi ovviamente ecco perché ho detto dobbiamo spostarci anche di luogo perché non è che sono nati qui questi problemi sono nati nel momento in cui il turismo è andato a svilupparsi in zone dove il concetto stesso di turismo ma anche stesso di viaggio era assolutamente poco esisteva poco e nulla anzi direi forse nulla nei momenti in cui si capisce che è una buona attività commerciale dopo la seconda guerra mondiale c'è il boom diciamo di questo tipo di operatori che iniziano a investire grosse quantità di denaro nei paesi soprattutto del sud del mondo queste soprattutto luoghi appetibili per la società occidentale quindi fondamentalmente splendide località balneari splendide località balneari che ovviamente però non sono fruite da nessuno fondamentalmente sono territori da un punto di vista turistico vergine e quindi che succede si iniziano a costruire una serie di infrastrutture il turismo ha bisogno di infrastrutture per poter essere effettuato e quindi iniziano a essere costruite infrastrutture che vanno dagli alberghi al ristorante e in alcuni casi anche a aeroporti e strade per poter far arrivare i turisti ora per capirci faccio una metafora che in genere funziona che come dire prende un po' spunto da studi anche dell'agenzia delle Nazioni Unite per il turismo così cerchiamo anche di capire un po' la genesi del problema dove nasce il problema allora immaginate che anzi prima di immaginare normalmente noi in Italia almeno abbiamo l'abitudine che se ci serve una lavatrice andiamo a un negozio elettrodomestici la compriamo ce la portiamo a casa e finisce là la attiviamo ed è un problema nostro non diamo fastidio a nessuno quando la vogliamo usare la usiamo poi se vogliamo spendere di più la facciamo di giorno se vogliamo spendere di meno la facciamo di sera ma fondamentalmente non è certo un problema sociale immaginate che poi una persona che dopo che hanno inventato chiaramente la lavatrice a gettone e tutte queste cose che oggi esistono invece di metterla come succede oggi insomma in posti di strade varie eccetera decide di metterle in un cortile di un insomma di una serie di abitato diciamo da varie persone perché trova che effettivamente nell'attesa in cui uno deve aspettare questa lavatrice che si fa è bello stare in un posto particolarmente carino e quindi invece di mettere appunto dove sono di solito le va a mettere in questo bel cortile all'inizio la cosa può anche non essere un grosso problema fa accordi ovviamente con il proprietario del cortile mette questa lavatrice qualcuno va e inizia a usare questa lavatrice di per sé la cosa non crea grossi problemi può sembrare strano ma chi se ne frega voglio dire arriva una persona si fa una lavatrice nel frattempo la gente abita lì i bambini giocano eccetera nel momento in cui aumentano diciamo queste lavatrici perché come dire funziona si vede che la cosa piace la gente apprezza il fatto di andare in un cortile carino eccetera eccetera aumenta questo flusso di persone vanno a farsi diciamo a lavarsi i panni in questo posto in quel momento iniziano a cambiare la situazione inizia a cambiare perché? perché le esigenze delle persone che vengono appositamente in questo cortile sono ovviamente diverse da quelle di chi ci abita per cui magari chi ci abita ha bisogno dello spazio per i figli per farli giocare e chiaramente invece chi ci viene per fare la lavatrice probabilmente ha bisogno invece di altre situazioni e quindi questo poi crea un successivo problema la classica frattura che succede sempre cioè tra gli abitanti c'è chi inizia a dire beh effettivamente questa cosa può funzionare io ora magari mi apro inizia a vendere un po' di bevande perché comunque qualcuno nell'attesa magari due bevande se le beve qualcun altro diciamo magari fa un po' di cibo quindi qualcuno inizia anche a come dire a creare un indotto di questa attività iniziale altri invece che rimangono fuori da questa attività iniziano un po' a vedere che ci sono questi che ci sono dei problemi che non si riesce più ad avere uno spazio proprio nel posto dove si abita e tutto questo poi nel tempo nel momento in cui i rapporti di forza diventano impari cioè che i turisti sono molto maggiori chiaramente può creare anche delle problematiche rispetto alle scelte politiche che fanno gli enti locali è una metafora ripeto tratta da studi fatti già negli anni 70 il turismo portò sicuramente tanti soldi in giro però creò una serie di problemi abbastanza grossi ecco questa cosa è da rimarcare perché noi soprattutto diciamo in Italia dove grossi problemi diciamo di base non ce ne sono rispetto ad altri posti diciamo del sud del mondo siamo spesso poco abituati a pensare al turismo come un'attività che come tutte le attività sia chiaro dove ci sono grossi spostamenti di persone ci possono essere dei problemi siamo più abituati diciamo all'idea che il turismo è una cosa bella da fare e anzi diciamo siamo dell'idea che più la facciamo meglio è siamo meglio l'idea di viaggiare è diventata ormai nella concezione comune diciamo non solo italiana anche europea un'esperienza importante si parla di esperienza che ovviamente c'è dal punto di vista di chi viaggia sicuramente può essere un'esperienza molto importante e anzi secondo me lo è assolutamente però appunto il turismo è un fenomeno che non è solo un qualche cosa che riguarda chi viaggia ma è un qualche cosa che riguarda anche chi diciamo deve volente o nolente ospitare diciamo le persone che viaggiano quindi diciamo le comunità locali che vivono nelle destinazioni turistiche negli anni 60 iniziano ad esserci una serie di critiche abbastanza grosse appunto al turismo sono critiche che partono le prime proprio da dalle chiese in particolar modo le chiese protestanti sparse appunto in tante zone del sud del mondo iniziano a far notare ai paesi occidentali che questa presenza dei turisti è in fin di conto invasiva si loro si divertiranno staranno benissimi andranno in mari stupendi ma ci sono dei problemi di cui tener conto infatti nel 1975 40 anni fa quasi c'è il primo documento fatto in Malese in cui dicono ai turisti è un documento fatto per i turisti in cui si dice comportatevi meglio perché ci state rovinando la salute con il vostro modo di comportarvi un altro tipo di critica invece veniva proprio da dentro chi portava avanti l'industria turistica anche da parte dell'agenzia mondiale dell'agenzia delle nazioni unite per il turismo l'UNVTO oggi UNVTO il quale invece criticava al contrario gli enti locali i governi locali e le comunità locali per dire apritevi al turismo guardate che fa bene fa fare un sacco di soldi quindi cercate di essere molto più elastici nelle vostre chiusure perché se no non ne beneficate quindi c'erano queste due critiche assolutamente inizialmente contrapposte dicevo prima che siamo di fronte a un fenomeno che è nato in occidente di fatto poi si è voluto e poi vedremo anche come si è voluto ma è nato in occidente per cui un'altra serie di critiche furono quelle che il turismo fondamentalmente tendeva a essere diciamo le frasi venivano usate sempre in quel periodo era addirittura neocolonialista si usavano molto queste espressioni addirittura qualcuno parlava di imperialista durante la guerra fredda cioè l'idea che era un modo per convincere le popolazioni del sud del mondo a vivere come noi perché cosa si era notato? si era notato che molto spesso succedeva che insomma una serie di problemi erano legati proprio alla differenza al gap che c'era tra chi partiva e chi invece viveva in questi posti ovviamente tutte queste critiche io ve le faccio perché sono storicamente diciamo le trovate in qualsiasi libro diciamo che ha a che fare col turismo poi hanno ceduto il passo come vedremo a una nuova concezione sia del turismo sia dei problemi di cui poi appunto parleremo fra poco e che insomma poi danno vita a questa nuova stagione del turismo responsabile a mio avviso molto più interessante e molto più stimolante però diciamo la storia è andata così cioè c'erano questi problemi c'è stata questa grossa contrapposizione quindi società civile e anche studiosi diciamo molto critici in particolar modo tutti coloro che studiavano le società quindi sociologi antropologi molto critici rispetto a questo fenomeno e viceversa industria turistica e quindi anche gli studiosi di economia che invece ne sottolineavano i benefici di tipo economico ovviamente come sempre quando c'è una contrapposizione un po' ha ragione l'uno un po' ha ragione l'altro le due cose ovviamente erano tutte e due vere nel senso che il turismo è ripeto un'ottima attività economica per tanti e che ha una serie di problemi lasciamolo così e quindi diciamo questa era la situazione negli anni settanta negli anni settanta queste critiche si trasformano poi nel giro di un bel po' di anni in realtà arriviamo addirittura al 95 con la prima carta sul turismo sostenibile sottolino le parole in modo che ci capiamo poi anche successivamente quando le analizzeremo nel 95 la carta di Lanzarote viene lanciata e contiene tutta una serie di elementi molto interessanti per un turismo che crea meno problemi quindi ha il basso impatto ambientale le cose che appunto sono state dette nella presentazione quando nasce diciamo il concetto sia di ecoturismo che di turismo sostenibile che sono state diciamo le due voci che ripeto hanno fatto subito presa in realtà nelle idee sempre di chi l'aveva coniate questi termini si pensava a un discorso molto articolato un discorso che quindi non fosse legato solo all'ambiente ma fosse legato anche ai problemi che abbiamo iniziato a elencare prima e che dopo elencheremo anche meglio appunto relativi alle culture relativi ai problemi socio-economici nel tempo però questi questi due concetti sia ecoturismo che turismo sostenibile che come giustamente è stato già detto sono totalmente diversi sono stati diciamo utilizzati molto soprattutto all'industria turistica con riferimento all'ambiente quindi pur non avendo in realtà insomma non essendo stati coniati per essere pensati solo per l'impatto ambientale nel senso ecologico nel senso quindi del termine di fatto se voi andate a vedere un poco come sono state presentati i viaggi di turismo sostenibile da chiaramente grandi operatori c'era un riferimento solo all'ambiente ovviamente questa cosa andava bene fino a un certo punto nel senso che i problemi sono diversi e non aveva nessun senso parlare solo di ambiente per questo motivo non in contrapposizione ma per fare diciamo un passo avanti inizia a nascere un po' il concetto di turismo responsabile quindi questo diciamo per fare un po' la genesi diciamo di come è stato coniato questo termine che fondamentalmente anche lì è iniziato a essere utilizzato in maniera molto così minimale negli anni 80 del secolo scorso poi pian piano si è evoluto i primi che hanno iniziato a usare questo tipo di termini sono stati tedeschi poi ad esempio in Italia nacque appunto l'associazione ITR è nata nel 1998 ma da un percorso che durava già da diversi anni e quindi diciamo fondamentalmente siamo nello stesso periodo in cui viene fatta la carta di Lanzarote che rimane una delle carte di riferimento ovviamente per chiunque faccia anche turismo responsabile oltre che per chi fa turismo sostenibile non sarò qui oggi ovviamente a raccontarvi in poco anche le differenze turismo responsabile non è un marchio copyright è un termine è un termine fatto da un sostantivo e un aggettivo quindi è ovvio che poi ognuno è libero di intenderlo come meglio crede l'ITR ha un suo modo di intenderlo e diciamo nel mondo e anche in Europa ci sono diverse altre modalità oggi diciamo non abbiamo il tempo di approfondirlo anche se poi sono sicuramente molto interessanti perché danno vita a forme di turismo molto diverse quello che conta è capire che quando parliamo di turismo responsabile non parliamo di una forma di turismo ma di un modo di intendere il turismo questo è molto importante perché così capiamo che non stiamo parlando di come era ad esempio l'ecoturismo che è una cosa molto pratica molto diciamo funziona così tu sai che se fai una vacanza ecoturismo già sai cosa stai andando a fare quando parli di turismo responsabile al più puoi capire come la stai facendo ma non c'è diciamo una forma quindi questo è assolutamente importante allora cerchiamo ora quindi di fare lo facciamo anche assieme magari così interagiamo un po' che io non amo parlare per tre ore di seguito cerchiamo di capire quali sono questi problemi diciamo legati al turismo io vi consiglio di farmi proprio degli esempi pratici di situazioni che avete visto in modo che cerchiamo anche un po' di avere una mappa cognitiva un po' più diciamo allargata ovviamente ripeto i problemi che ci sono stati nel sud del mondo inizialmente quando il turismo è nato sono stati sicuramente maggiori di quelli che possiamo trovare qua ma fondamentalmente al di là della differenza di scala poi si ritrovano le stesse cose quindi mi interessava anche capire visto che non vi conosco e so che appunto avrete diversi incontri insomma tutti molto interessanti capire un po' se voi percepite che il turismo oltre a essere una cosa molto interessante perché io sono tra i fautori del turismo responsabile che la trovo un'esperienza c'è stato riferimento al woofing che è un'altra esperienza bellissima poco considerata normalmente come turismo ma in realtà è una delle forme forse più belle diciamo per viaggiare in questo periodo appunto tenendo conto della crisi di tutti questi discorsi qui volevo sapere un po' se qualcuno di voi diciamo aveva questa percezione in modo anche da così da avere un feedback diciamo su quello che ci stiamo dicendo quindi non ci intimidiamo ditemi se c'è qualcuno che dice sì effettivamente mi è capitato durante un viaggio di trovarmi in una situazione problematica quale che essa sia così iniziamo un po' a capire se riusciamo a fare una mappa comune o se invece per voi il turismo va bene va anche bene questi po' se per voi il turismo è una cosa esclusivamente positiva è interessante saperlo in modo che lo capiamo uno dei problemi forse più evidenti connessi appunto al nostro territorio che è molto caratterizzato dal turismo balneare se vogliamo è appunto che in agosto o in luglio appunto le città poi che sono le mete turistiche più rinomate come Lecce o anche lungo la costa di Bari ci sono parecchie città come Polignano la cosa più evidente è il traffico che si genera poi con auto pullman turistici che poi è un problema che deriva anche un po' dalla mancanza appunto di mezzi pubblici frequenti ed efficienti alla fine la cosa più evidente forse per quanto mi riguarda è quella in Puglia non lo so se è un problema perché tante volte penso a Venezia e allo spropositato numero di turisti che ogni anno che sempre frequentano questa meravigliosa città che ovviamente ha tutti a miliardi di motivi per essere così frequentata ma mi chiedo se un numero così elevato di turisti ogni giorno non stia contribuendo uno ad affossare la città dal punto di vista ambientale perché non è l'impatto antropico e l'altro dal punto di vista socio-culturale il fatto che quando cammini per Venezia non è più l'impressione che sia una città vera e propria una città viva ma sia diventato soltanto un magnifico splendido contenitore per turisti quindi secondo me Venezia in Italia rappresenta questo punto di vista il caso più emblematico sotto certi aspetti non voglio fare riferimenti alla Puglia o altri magari l'altro Francesco ha citato un problema ovviamente oggettivo qui a me viene a pensare oltre alla Puglia al sud in generale o alla Sardegna dove ho visto un resort turistico letteralmente scavato nella montagna su una costa bellissima deturpandola in maniera inequivocabile adesso non ricordo bene avvicino la costa Smeralda non è in costa Smeralda ma in Gallura mi pare quindi diciamo cementificazione da un lato sotto l'initui e la banalizzazione dei luoghi vogliamo dire che Venezia mi ricorda molto Alberobello sotto questo punto di vista diciamo un posto splendido ma abbastanza banalizzato da come si è evoluto no? esatto diciamo non per i cinisti ma proprio per il fatto che proprio non ha più nulla di insomma abbiamo già identificato due problemi più il traffico che quindi il discorso del nel caso del traffico abbiamo il problema che che poi si ralaccia anche al problema della destagionalizzazione nel senso che da un lato uno dice dovremmo cercare di avere gli stessi turisti più turisti ma magari spalmati in un periodo più lungo dall'altro lato poi in realtà se non ci si pone il problema che troppi turisti non fanno bene perché appunto creano tutta una serie di situazioni o hanno bisogno di una serie di strumenti per poter dare meno fastidio il paradosso è che si rischia che le realtà non destagionalizzate pensiamo a Barcellona Barcellona è una realtà che tutto l'anno io sono andato ho preso una volta in inverno di mercoledì un aereo da Brindisi per arrivare a Barcellona l'aereo era pieno di persone ho detto caspia ma che va tutto a Barcellona di mercoledì un giorno abbastanza poco turistico di inverno un freddo cane e a Barcellona è pieno pieno zeppo se andate a fianco alle Ramblas di cartelli di gente che non ce la fa più esasperata perché paradossalmente dicono a noi ci sarebbe piacere se un mese all'anno ci vengono pure i turisti ma se tutto l'anno dobbiamo avere queste masse quindi come vedete i problemi poi si intrecciano non è mai facile insomma il turismo trovare proprio perché abbiamo diversi attori che debbano diciamo interagire quindi è interessante sentiamo altre altre opinioni di viaggio di ciascuno sono Giuseppe presento sì allora un altro problema uno che mi associo al problema che aveva messo Francesco poco fa è il fatto dei trasporti io mi sono trovato molto spesso sui treni a vedere turisti cinesi e giapponesi che avevano difficoltà a spostarsi magari da Monopoli a Mattina Franca Monopoli e Mattina Franca una macchina una mezz'ora dovevano per forza erano costretti ad andare da Monopoli a Bari e da Bari prendere il treno della Frioria Sud-Est per approvare a Mattina Franca inoltre non ci sono anche in città nemmeno il personale delle ferrovie magari non è nemmeno adeguatamente informato su quelli che sono i percorsi ma anche i centri informazioni a Bari c'è il centro informazioni in Piazza Moro però funziona non è quasi sempre chiuso arrivano turisti e non sanno a che ora per questo museo quella chiesa oppure si è aperto da informazioni sbagliate come oggi a un amico che è venuto e gli hanno dato dei pullman totalmente inesistenti che non ne esistono più da anni mi hanno detto ma capita effettivamente l'inadeguatezza a quello per fortuna si può porre di meglio diciamo che sono problemi devuti alla inefficacia inefficienza dalle informazioni anche una città io ho avuto l'esperienza personale di Lecce di perdermi dentro Lecce perché non c'era non conoscendo la città non avevo cartelli oppure personale adatto a informare diciamo il percorso da fare quindi in questo caso il problema che tu stai evidenziando è un problema esattamente l'opposto che esiste e quindi va tenuto in considerazione cioè è la destinazione che deve essere più accogliente cioè che può anche una volta facilmente riuscire a dare una serie di informazioni e anche di situazioni tecniche per far sì che chi viene si trovi meglio quindi il problema dal punto di vista del turista perché come abbiamo detto i problemi sono da tutti i lati quindi la quadra non è facile trovarla questo appunto è un altro problema che ha a che fare col turista che non viene in questo caso ben accolto perché chiaramente poi insomma se ti trovi in queste situazioni anche io non viste tante anche difficoltà dei trasporti dalla costa lento terra comunque è considerevole per non parlare la domenica che non c'è mai nessun treno che gira tra Puglia e Basilicata anche nei giorni 25 aprile primo maggio la stessa cosa eh sì buongiorno io sono Alessandro mi occupo di turismo e mi occupo anche di cammini perché faccio parte di un'associazione che si chiama Sud Nordic Walking e facciamo attività sul territorio soprattutto della Murgia perché sono di Cassano e siamo rientrati nel progetto del Parco Nazionale dell'Alta Murgia volevo mettere in evidenza un paio ovviamente condivido tutto quello che hanno detto gli altri molto spesso mi rendo conto quindi lo contestualizzo al Parco dell'Alta Murgia che è un parco nazionale giovane nel senso che è nato da poco le attività turistiche vengono calate un po' dall'alto quindi da come dire dagli enti dalla regione o dall'ente parco senza però innanzitutto creare un substrato quindi un come dire un coinvolgimento reale della popolazione cioè noi ci troviamo a far parte di un parco ma in realtà noi di Cassano come la maggior parte non sappiamo quasi nulla del parco non sappiamo perché è nato questo parco quali sono effettivamente le potenzialità perché poi a volte si tratta soltanto di qualcosa di politico in cui sapete benissimo di che stiamo parlando non ti rendi nemmeno conto di stare nel parco perché non ci sono attività eccetera quindi molto spesso le realtà turistiche vengono come dire quasi imposte da parte di pochi su tutta la popolazione ecco perché poi molto spesso ci sono queste divisioni chiamiamoli scontri ovviamente tra chi subisce e chi poi invece viene d'altro canto invece occupandomi anche di turismo un po' più ad ampio respiro quindi il classico turismo non di massa però turismo normale si valorizza poco l'incontro tra chi viene a visitare quindi viaggiatori turisti e chi ci abita non c'è questo scambio quasi mai cioè diciamo nel turismo classico tranne se vai nel bar o piuttosto in ristorante sono gli unici punti di contatto che tu puoi avere con chi ci abita quindi in realtà tu non conosci non conosci assolutamente nulla del posto che vai a visitare addirittura molti tour operator ci fanno credere ci vendono i famosi pacchetti villaggi eccetera come un plus un qualcosa di estremamente positivo andare in un resort in un villaggio dove sono tutti italiani la cucina italiana e io dico io cioè che ci vai a fare a Cancun piuttosto che per cui molto spesso manca proprio questo anche collegamento c'è questa possibilità di vivere concretamente a stretto contatto con le persone che che vivono sul posto ecco perché poi molto spesso nascono queste forme tipo il il woofing oppure altri siti tipo couchsurfing non so se lo conoscete sono ospitalità gratuita io personalmente l'ho utilizzato sia per viaggiare e ospito regolarmente perché ormai è uno dei pochi modi per entrare nel come dire nella cultura entrare a contatto con le persone che vivono e così insomma la stessa cosa faccio quando la gente viene a casa mia quindi mangia cioè cerca di capire effettivamente come noi in Puglia o almeno noi nella Murgia insomma viviamo grazie allora hai detto tante cose interessanti prima del prossimo intervento interagiamo il discorso del sono dilungato no no hai fatto bene più cose dite perché io potrei dire tantissime cose diverse però preferisco più dirle rispetto a quello che voi fate presente piuttosto che farvi una capatanta di informazioni quindi va bene così e quindi no hai detto diverse cose quindi proviamo a toccarle tutte allora il discorso del problema degli enti rispetto alla popolazione quindi il discorso in questo caso del parco della Murgia quindi di un confine che spesso viene visto come un limite e non come valore aggiunto eccetera rientra ovviamente nel tipo di problemi di che perché insomma non so se siete tutti operatori turistici ma fondamentalmente noi abbiamo quattro attori nel turismo volente o non volente per l'industria turistica sono solo tre però in realtà sono quattro allora uno sono i turisti senza quelli qualsiasi proposta non andrebbe passato la proposta più bella di questo mondo ma se non abbiamo il turista non sappiamo più che farcene della proposta poi abbiamo ovviamente gli operatori turistici molto diversi l'uno dall'altro per cui non si può generalizzare diciamo in generale c'è l'industria turistica che prende dal grande turo petro che fa pacchetto tutto compreso dal volo charter all'alloggio ma in genere gestiscono loro tutto e quindi creano poi quelle situazioni un po' di circolo vizioso che tu facevi riferimento hai fatto riferimento ai villaggi turistici il villaggio turistico è un classico riferimento di un tipo di viaggio che io sia chiaro non contesto chi fa turismo responsabile non contesta mai le scelte di chi viaggia perché poi è vero che come dire c'è chi vende un qualche cosa ma c'è anche sempre chi compra per cui se il villaggio turistico viene venduto vuol dire che tanta gente preferisce stare a Cancun con gli italiani mangiando cibo italiano e soprattutto aggiungerei senza mai uscire dal villaggio turistico che a maggior ragione non dice scusa ma che ci sei andato a fare però tu evidentemente sei una persona curiosa che metti al primo posto come chiunque faccia turismo responsabile l'incontro e c'è tanta gente che invece ha paura dell'incontro c'è proprio tanta gente che va nei villaggi turistici proprio perché non vuole perché come di pregiudizi luoghi comuni eccetera eccetera che succede anche all'inverso in Italia noi abbiamo un gruppo a Napoli che viene molto più chiamato di noi che siamo a Matera perché? perché la gente a Napoli ha paura di andare e allora vuole stare protetta no allora il villaggio turistico è questo discorso qua è la protezione massima cioè non esci mai stai in un bel posto puoi dire agli amici che sei stato in giro per il mondo e finisce là quindi ovviamente i turisti sono diversi le proposte sono ovviamente diverse il problema è come fare in modo che diciamo ciò non vada poi a discapito di qualche di un altro cosa che invece poi spesso succede vi faccio un banalissimo esempio attualmente uno dei soci del direttivo di ATR è stato incaricato dal comune di Civitavecchia di occuparsi di migliorare tutta la gestione delle crociere quindi dei crocieristi che normalmente arrivano al porto di Civitavecchia fanno questi giri velocissimi a Roma e appunto lasciano poi ben poco tu prima parlavi di prodotti locali eccetera chi fa questo tipo di viaggio fondamentalmente di locale veramente a parte due foto che scatta c'ha ben poco però esistono anche le crociere allora ecco noi del turismo responsabile riteniamo che bisogna occuparsi di tutto il comparto perché è tutto il turismo che deve diventare più utile ai territori vogliamo dirlo così diciamo più interessante più stimolante eccetera poi hai detto quindi questo diciamo per la parte diciamo del parco per quanto era bel calcio surfing anche io stasera ho amici che arrivano da francesi che arrivano e anche lì poi è molto interessante vedere come il turismo si sta sviluppando noi continuiamo a chiamarlo turismo ovviamente il concetto di turismo oggi è più visto come quello che fa fare soldi in realtà il turismo responsabile è anche un dire è l'esperienza di viaggio per cui nel momento in cui io il servizio te lo do perché comunque viene a casa mia a colazione te la faccio fare però non mi faccio pagare quindi comunque sto dando un servizio turistico semplicemente entro in un ottico di rapporto e non diciamo di commerciale questa è la differenza però appunto secondo me vanno tenute diciamo ben in evidenza queste situazioni il calcio surfing come appunto il goofing cioè sono modi di viaggiare diverso che ovviamente sono per una fascia di popolazione che cerca molto di più l'incontro a differenza degli altri quindi l'importante è tenerlo presente e cercare di fare un po' tutte le cose andiamo avanti poi pian piano mi verranno in mente altre cose da aggiungere chi altro ha fatto qualche viaggio che ha detto ho creato un problema oppure mi hanno creato un problema che ripeto è interessante vedere dai diversi punti di vista come si quattro attori no io l'ho trovato il problema ricollegandomi al discorso della cementificazione che diceva Giuseppe laddove spesso nell'immaginario collettivo andare in un posto significa trovare un paesaggio incontaminato e poterlo fruire a volte le strutture che vengono realizzate per poter fruire quel paesaggio danneggiano la sua qualità e quindi si crea una sorta di cane che si morde la coda perché quel luogo perde di valore e all'improvviso diventa perdere anche il suo interesse turistico quindi oltre a perdere la qualità paesaggistica perde anche l'interesse economico magari da parte di operatori sono d'accordo aggiungo una cosa spesso si dice che le strutture soprattutto le ricettive a cui stiamo facendo riferimento avranno convenienza a essere più ecocompatibili è un mantra che si sta sviluppando per cui si dice no guarda le strutture ricettive capiranno l'importanza io sono molto scettico nel senso conoscendo come funziona il turismo quindi vedo che ci sono degli operatori quindi ci possiamo capire anche facilmente il grande operatore cioè quello che voglio dire non è legato a un posto quello che o apre a Cancun o apre a Otranto non gli può fregare di meno l'importante è che gira l'economia perché quello nasce per quello ovviamente nel momento in cui ha distrutto una località perché magari ha cementificato pensiamo a la costa di Alicante il sud della Spagna cosa hanno creato diciamo in quei posti se ne va cioè non gli può fregare di meno è un investimento come un altro se ne va e va ad aprire da un'altra parte quindi quando i flussi turistici non sono più utili al suo diciamo al suo profitto se ne va non si fa troppi problemi sicuramente l'operatore locale essendo legato anche al territorio da un punto di vista sociale culturale la comunità che gli resta attorno comunque conta perché facciamo parte di società quindi lì posso essere d'accordo che c'è una struttura ed è una persona diciamo fondamentalmente un piccolo imprenditore chiamiamolo così probabilmente ha più interesse a salvaguardare il proprio territorio una volta che ha capito che c'è anche un interesse economico i turisti lo vogliono eccetera viceversa sono molto scettico andiamo avanti sì ciao sono Angela Giordano vabbè un bed and breakfast per cui diciamo da questo punto di vista penso che di essere nell'ottica del turismo responsabile perché è un modo di non creare cemento aggiunto ma è quello di usare case che ci sono e quindi anzi valorizzare il centro storico che da noi piuttosto in particolare io so abitonto ha subito un flusso diciamo di abbandono in qualche modo e quindi diciamo c'è stata la cementificazione nelle zone fuori dalla parte storica e quindi lo svuotamento di questi edifici e lo svuotamento di tutto questo tessuto di negozi di piccole botteghe che diciamo è sotto gli occhi di tutti e che invece diciamo può essere deve essere di nuovo ripopolato perché si possa parlare di diciamo di un turismo anche interessante insomma e quindi diciamo il turismo responsabile per me è un modo di viaggiare che diciamo ti dà il valore aggiunto non è quello che appunto vai nel villaggio turistico ti chiudi però perché sono io come persona sono curiosa e quindi a proposito di diciamo di responsabilità quello che adesso sto notando è che si sta parlando molto anche di innanzitutto di 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 strutture di golf di golf e in Puglia cioè ogni tanto sento parlare di queste grandi strutture che devono nascere o nasceranno ed è sicuramente un turismo che non ha niente a che fare con la nostra terra e ovviamente qui invece ci sono i poteri economici che sono quelli forti e quindi a questo punto come si può diciamo cioè questa bilancia di economia e di invece di salvaguardia del territorio è sempre abbastanza lì che ormai sappiamo che o è la cementificazione o è lo sfruttamento del territorio proprio della risorsa idrica per esempio diciamo è una mentalità che bisogna creare questa più più che nel turismo anche nella propria quotidianità cioè oltre che andare nel turismo proprio la risorsa diciamo vista come risorsa di terreno risorsa vista come però diciamo elemento importante da salvaguardare più che turismo responsabile quindi anche utilizzo del territorio responsabile diciamo questo che vedo molto difficile cioè vedo che non riusciamo mai a imparare cioè troviamo sempre una strada in cui diciamo va bene ci siamo accorti che la cementificazione ha distrutto però magari ci inventiamo un'altra cosa che va a diciamo ad erodere adesso per esempio in effetti la scommessa del parco dell'Altamurgia spero che diciamo non si che si tuteli insomma ecco che si riesca a gestire responsabilmente ok grazie hai condensato secondo me hai fatto un ottimo sunto diciamo di quello che è il turismo responsabile con il tuo esempio io sono d'accordissimo per il campo da golf anche questo è il classico esempio hai fatto riferimento al problema idrico ora uno dei più grandi problemi che c'è stato a livello mondiale rispetto al turismo è stato proprio quello dell'approvvigionamento idrico cosa succedeva soprattutto ripeto in alcune zone del mondo diciamo non in tutte che per far arrivare l'acqua nei resorts negli alberghi nelle strutture diciamo adibite al turismo poiché l'acqua quell'era ci sono zone rigogliose e zone meno rigogliose come ben sappiamo non bisogna essere esperti in geografia mondiale per saperlo si andava in conflitto e ci sono stati conflitti anche assurdi l'ultimo che per fortuna si è risolto bene per le popolazioni locali il che non si dice che il turismo non ci può stare ma chiaramente sono quelli che ci abitano è successo in Botswana non so se lo pronuncio bene che non ho mai capito la pronuncia dove praticamente un po' di anni fa l'ufficio del turismo l'ufficio nazionale del turismo dà una concessione a una grossa insomma azienda che doveva fare appunto un resort turistico un grosso resort turistico che avrebbe dato lavoro eccetera 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 e per fare questo perché chiaramente doveva arrivarci l'acqua avevano di fatto privatizzato le fonti che le popolazioni locali utilizzavano per cui hanno preso queste cose che succede anche in Italia spesso e volenticiamo poi in Italia abbiamo tante altre modalità molto spesso la gente si beve l'acqua minerale eccetera ma comunque di fatto in questa zona in Botswana hanno tolto l'acqua e i boscimani per fortuna perché c'erano appunto delle associazioni dell'ONG con degli avvocati hanno fatto causa e nel giro di poco relativamente poco hanno riavuto diciamo questa possibilità di accedere a una fonte di vita insomma l'acqua notoriamente la guerra dell'acqua è una guerra che a parte si pensa che prima o poi si fa anche la guerra dell'acqua proprio in generale ma nel turismo è molto forte io me lo ricordo in Abruzzo quindi senza andare chissà quanto lontano un paesino sperduto dell'Abruzzo in montagna io c'era l'Abruzzo pieno di acqua intanto in quel posto c'era poca acqua perché qualche problema che teneva non ne arrivava poca e c'era un piccolo villaggio non turistico ma un villaggio di case per vacanze di gente veniva da Bari e da Napoli che andava lì che erano le prime montagne che incontrava e quando arrivava l'agosto che c'era il pienone ovviamente di persone da fuori la popolazione locale si trovava senza acqua allora capite che se il turismo va a discapito di qualche di un altro soprattutto di chi ci abita non solo i responsabili ma proprio non andiamo da nessuna parte qualcuno si fa i soldi sicuramente molto spesso ovviamente capita che le persone dicono vabbè mi do un pizzico sulla pancia chi se ne frega almeno lavoro e finisce là e questo poi magari lo affrontiamo sui campi da golf e chiudo sui campi da golf è chiaro che campi da golf è il solo discorso non è che c'è un luogo nel mondo dove c'è una tradizione non è un prodotto tipico il golf il golf è uno sport se vogliamo chiamarlo sport è un divertimento sicuramente un divertimento per chi lo fa immagino sia un divertimento sicuramente non è uno stress che lo facciano in luoghi dove c'è tanta acqua io non ho nulla incontrare cioè nel senso che non è che sono contro il golf per qualche motivo solo perché bisogna avere i soldi per fare non me ne frega niente cioè chi lo vuol fare lo fa insomma non è un problema e diventa un problema se lo si va a fare in posti ripeto dove c'è mancanza di acqua o carenzio o problemi lì dobbiamo essere contrari il problema è chi deve essere contrario e tu hai toccato un punto importante è la popolazione locale che deve essere uno degli attori protagonisti e qui entriamo poi un po' anche nel vivo della discussione che faremo dopo cioè turismo responsabile quando dicevo prima facevo riferente a quattro attori forse non ho finito di dirli ma sarà nel dubbio che ho saltato diciamo l'elenco dicevamo operatori turistici turisti gli altri due sono gli enti perché comunque poi decidono tante cose importanti e la comunità locale dove ci sono in tutto il mondo comunità locali che si attivano poi ho in associazione o è un comitato o è un qualsiasi gruppo di persone che decide qua c'è un problema facciamo qualche cosa e più riesce diciamo a essere un gruppo meglio è ma non perché bisogna combattere non è questo lo scopo perché bisogna fare cultura c'è anche il discorso del parco che facevamo prima se non nasce dalla gente anche un qualche cosa allora tu hai o l'istituzione che è bravissima appunto a fare delle belle cose e poi a trasmettere o viceversa puoi avere delle persone intelligenti che vogliono arrivare a un buon risultato i due sono entrambi validi come percorsi o l'uno o l'altro ci possono andare bene comunque quindi è importante che nella vita quotidiana si attenti a certe cose il turismo responsabile non si inventa se non c'è un gruppo di persone attenti al proprio territorio probabilmente sarà difficile fare il turismo responsabile o se c'è il turismo responsabile per puro caso perché poi un'altra cosa che dobbiamo dire ripeto non mi sto dilungando sulla parte teorica è che esistono anche studi proprio sul ciclo turistico diciamo di una destinazione nel senso che fondamentalmente le dinamiche sono sempre le stesse all'inizio c'è un grande entusiasmo da parte di alcuni operatori soprattutto se è endogeno quindi se non è arrivato il grande la multinazionale a costruire l'albergo normalmente nei nostri soprattutto nel sud Italia succede che magari c'è qualche operatore che inizia a dire ma potremmo fare qualche cosa qualche autorità un po' più sensibile che dice vabbè si facciamolo qualche piccolo finanziario nascono un po' tutti così soprattutto nei piccoli paesi le esperienze turistiche poi e quindi queste sono le avanguardie poi pian piano si sviluppa un tessuto un po' più interessante di persone che quindi credono nella possibilità di sviluppare servizi turistici se siete venuti a Matera Matera negli ultimi 15 anni è incredibile come è cambiata da un posto totalmente abbandonato siamo arrivati a un luogo fin troppo turistico nel senso che ora molta gente campa di turismo per fortuna visto la crisi degli altri settori e ci sono ovviamente come sempre altri problemi da affrontare che si affronteranno poi nella terza fase inizia ad esserci appunto un problema in cui non è che le distensioni sono sempre turistiche non succede da nessuna parte voglio dire posso durare molto ma non sono sempre turisti c'è sempre un declino perché? perché tutto quelle che erano le attrattive di un tempo iniziano a scemare capita non c'è molto da fare insomma è un dato di fa o perché le stiamo consumando e quindi parliamo delle risorse ambientali o perché fondamentalmente diventano inflazionate cioè Alberobello prima o poi non sarà così che è attualmente uno dei posti più visitati in Puglia se non ricordo male dalle statistiche è quello che ha più gruppi che arrivano ma prima o poi qualcuno dirà senti guarda Alberobello lascia stare ci sta io ho avuto un gruppo di tedeschi che è arrivato in un'agenzia che va sempre in Valle d'Itria bellissima è venuto a Matera ha detto non ci mette molto tempo che si organizza accade anche questo altri interventi anche lei buongiorno mi chiamo Lulu e io vorrei insomma che il turismo anche sensibilizzando i turisti sia anche sensibilizzare le comunità locale insomma parliamo del Golf e Costa Ripagnola che sicuramente è uno dei ultimi posti intorno a Bari che non è costruito che non è stato cementificato scusatemi vabbè insomma stanno parlando di costruire questo Golf però la popolazione magari non è nemmeno consapevole di che cosa implica sull'acqua eccetera sul paesaggio eccetera io vorrei che tutti gli attori del turismo insomma quelli almeno che pensano che il turismo sia un via di sviluppo che sia per l'ambiente per tante cose si impegnano a sostenere i comitati che difendono la costa che la custodiscono insomma che si impegnano anche loro a fare delle azioni perché è bello sfruttare il turismo però insomma io faccio molto la costa che si incano a piedi nuotando e vedo i danni che ci sono dai pescatori stessi che vivono dal mare del pesce da noi che lo mangiamo ma che schifezza ci mangiamo insomma io vorrei che ci sia una convenzione etica tra gli attori del turismo per organizzare queste pulizie delle spiagge però insieme ai turisti insieme alla popolazione insomma che c'è un impegno un po' più profondo nel turismo che hai riassunto uno degli studi più importanti dell'agenzia delle nazioni uniti per l'eliminazione della povertà all'UNEP che dice proprio questo cioè i quattro attori che abbiamo appena nominato dovrebbero tutti avere maggiore etica in quello che fanno e maggiore attenzione per quello che fanno un bellissimo documento sicuramente ispiratore di tanti modi di pensare la critica che fanno gli studiosi è quando mai accadrà una cosa del genere cioè la teoria è vera è tipo le utopie sono bellissime da sapere che uno ha l'utopia il problema è quando accadrà che in un luogo comunità locale turisti che poi vengono da tutte le parti del mondo quindi vattene la pesca a quale ti arrivano e non è facile sapere se arriva l'uno o se arriva l'altro nel senso che uno può indirizzare i flussi ma poi non è proprio facilissimo istituzioni locali e operatori turistici tutti e quattro contemporaneamente si mettono d'accordo per uno sviluppo armonico del territorio questo sarebbe l'idilio sarebbe la cosa più bella che in quel caso faremmo tutti turismo responsabile in quella località tutti farebbero turismo responsabile perché avrebbero tutti a cuore la stessa situazione la realtà però è un pochino meno idilliaca ma ripeto proprio per un dato di fatto esistono anche in Puglia ci sono dei tentativi di indirizzare i flussi turistici voglio più i russi piuttosto che voglio i cinesi voglio i cinesi piuttosto che voglio che ne so i nordamericani cioè poiché ogni realtà soprattutto dall'estero si indirizza verso un tipo di turismo a meno parliamo di grossi numeri non insomma degli individuali che sfuggono ovviamente ogni possibilità di indirizzamento ci sono queste situazioni se io in una zona nel parco di Alta Murgia inizio a fare resort di lusso vuol dire che sto scegliendo un tipo di target il lusso non è un problema ci sono anche tanto lusso compatibile però dico inizio a scegliere sicuramente magari più che ne so il magnate russo piuttosto che lo studente che ne so cecoslovacco ceco cecoslovacco non c'è più questo sicuramente però ripeto è molto difficile allora è meglio essere pragmatici e sapere che chi voglio dire ha più sensibilità verso queste cose deve farsi promotore e cercare alleanze vi dicevo che nel 75 fu fatta la prima carta per l'etica dei turisti di questi codici ce ne sono tantissimi ovviamente non ve li ho portati perché non sapete insomma diventavano veramente troppi ma ogni realtà in ogni località fa il suo codice per il comportamento etico dei turisti per dire rispetta il luogo il comportamento etico delle comunità locali io non conosco ora bene la zona di Bari da un turista turistico ma conosco Salento conosco Matera conosco Napoli e Roma non ne parliamo proprio e di operatori che come dire si comportano male vogliamo usare un eufemismo diciamo giusto così cioè che sono di fatto dei ladri legalizzati che approfitta del turista per spennarlo beh quello è un problema pure che esiste ovviamente ci sta l'uno e ci sta l'altro uno deve chiaramente fare affidamento alle persone un po' più eticamente connotate per cercare di arrivare non dico all'idilio ma a migliorare sicuramente mi ricollego a quello che diceva lei prima e a quanto detto anche dal non mi ricordo adesso il nome Alessandro attraverso il nostro progetto pensavamo che anche la scelta dell'operatore e della popolazione locale è fondamentale per il turismo responsabile quindi noi e le associazioni partner alla fine è quello che cerchiamo di fare nel senso orientare appunto la scelta soprattutto del visitatore pugliese in Puglia che è fondamentale e anche chi ci viene a visitare verso quegli operatori quelle strutture che già comunque sono responsabili di loro il nostro portale non sarà altro che un aggregatore appunto di tutti questi operatori Nordic Walk potrebbe essere tranquillamente il nostro partner perché adesso che l'abbiamo conosciuto l'itinerario non sarà prodotto da noi ma sarà il parco dell'Alta Murcia erogato il servizio sarà erogato da Nordic Walking e quindi l'aggregatore di questi servizi di questi operatori nel nostro caso che è un operatore locale quindi un booking creato in Puglia ha proprio questo come obiettivo orientare la scelta verso quegli operatori e quelle strutture ricettive soprattutto anche le attività woofing coach surfing ma anche attività turistiche che non sono sempre magari di entertainment ma anche culturali come ad esempio la raccolta di un frutto che è biologico e quindi spiegare che magari mangiare cibi non fatti dall'80% con fitofarmaci ma cibo un po' più naturale ecco un po' più povero però più naturale anche un po' meno bello e più naturale penso che sia comunque un'attività connessa appunto al popolazione autoctona e al turista che sia educativa verso appunto la scelta giusta che bisogna fare sul territorio quindi il portale nostro sarà un aggregatore appunto di operatori come può essere questo nel nostro caso abbiamo Bielsisto che comunque vende prodotti tipici prodotti bio online abbiamo Ciclammino che promuove la mobilità sostenibile nelle varie città fa educazione nella scuola insomma con loro intendiamo intraprendere questo percorso e quindi creare dei servizi dell'attività che metta anche in contatto adesso mi riconnetto a quello che comunque diceva Alessandro la popolazione e il turista con l'obiettivo appunto di quindi lavorare insieme per allungare il ciclo di vita della Puglia quale metaturistica quindi la scelta dell'operatore locale è fondamentale è fondamentale affidarsi ad un produttore locale che ci tiene al fatto di preservare la Puglia come destinazione che duri nel tempo e che non si deteriori il prima possibile aggiungo una cosa a quello che hai detto io ho trovato il vostro portale molto interessante proprio perché appunto riassume molto bene diciamo anche quello che è il concetto di turismo responsabile e quindi sono contento che ETR abbia fatto da partner per questo vostro progetto perché non capita spesso da partner spesso a tanti progetti non sempre poi si rivelano così interessanti cioè in teoria si poi ora lo si vede ed effettivamente molto diciamo vicino a noi aggiungo una cosa che è stata detta sia da dei prima che da altri che è molto importante anche qui oggi nel sud dell'Italia diciamo stiamo un po' ragionando sul tema del fare economia locale quindi fare in modo che il turista possa spendere soldi che restano in loco quindi andando a come il prodotto tipico eccetera eccetera ora da noi è abbastanza facile che ciò accada e quindi ben venga nel senso che voglio dire è un qualche cosa diciamo che soprattutto a sud Italia con tutte le cose buone che abbiamo vendere prodotti locali è fatto riferimento anche al chilometro zero sono cose che non si capisce perché non l'abbiamo fatto già da prima chi l'ha fatto da prima sta molto più avanti perché chiaramente ha trovato una clientela che appunto l'ha apprezzato molto però ricordiamoci appunto anche una cosa sempre per fare un riferimento anche un po' al turismo in generale che un altro dei grossi problemi dei forse dei più grandi problemi da cui poi si è generato il concetto di turismo responsabile era proprio che nei paesi dove non c'era questa abitudine ripeto al turismo alla vendita di prodotti eccetera succedeva un po' quello l'esempio che è stato fatto prima cioè che si arrivava si costruiva si portava il cibo italiano internazionale cucina quello che era e tutto diciamo l'investimento fatto tornava poi diciamo nei paesi all'epoca cosiddetti occidentali cosa rimaneva sul territorio rimaneva persone pagate ovviamente quindi un aumento sicuramente di un'economia precaria insomma comunque di un lavoro stagionale eccetera in genere molto sottopagate soprattutto di basso profilo nel senso che normalmente le persone venivano impegnate erano gli sguatteri che dovevano stare in cucina lavare i piatti oppure quello che doveva portare il facchino doveva portare magari le valigie non a caso diversi progetti di turismo responsabile ad esempio uno nel sud-est asiatico che ultimamente ho avuto il piacere di leggere e di conoscere fanno anche formazione del personale allora dicono tu entri e vabbè all'inizio fai anche il lavapiatti perché non hai studiato non sai fare di venire a un villaggio sperduto dove non hai neanche fatto scuola vabbè io ti faccio lavorare con quello che ti posso far fare ma nel frattempo ti formi ti insegno l'inglese ti insegno le lingue ti permetto di poi in futuro diventare tu un piccolo operatore o comunque di spenderti di iniziare la possibilità di andare avanti ovviamente certi problemi che qui noi di fatto non abbiamo non abbiamo mai avuto o in maniera non così diciamo forte come in altri posti invece in certe situazioni veramente sono drammatici uno dei problemi lo dico io perché sicuramente non uscirà in ITR abbiamo all'interno di ITR un'ONG molto importante internazionale che fa parte anche di tante altre realtà europee che è ECPAT ECPAT è un'ONG che si occupa di lotta contro il turismo sessuale con i minuti ora è chiaro che questo è un problema che qua da noi per fortuna non c'è non se ne ha traccia non saprei dirlo ma è uno dei più grandi problemi del turismo uno pensa sempre al turismo la maggior parte di noi pensano al turismo come un'esperienza come una cosa bella a vedere bei posti eccetera purtroppo c'è tanta gente che la pensa in maniera totalmente diversa pensa che invece il turismo è andare insomma appunto nei paesi in particolar modo il sud-est asiatico e ora so che anche in Kenya e nei paesi vicino insomma il Kenya si sta di nuovo molto sviluppando questa bruttissima cosa di appunto questo tipo di turismo dico subito che ovviamente non è un problema legato solo al turismo il turismo sessuale lo sfruttamento dei minori nel sud-est asiatico nasce con gli eserciti che erano presenti all'epoca diciamo del colonialismo diciamo occidentale quindi come ritorniamo al discorso che le sono masse di persone che si spostano che possono creare problemi non il turismo in sé questo va detto sennò poi andiamo in polemiche che non vanno da nessuna parte detto ciò questo è uno dei più grossi problemi che abbiamo e quindi tutte le realtà che fanno turismo responsabile e che hanno contatti diciamo o che fanno viaggi chiaramente nel sud del mondo o in questi posti in particolare che sono questi problemati o anche in Latino America purtroppo sta prendendo piede sono tenute a far capire almeno a dissociarsi a far capire insomma c'è un modo diverso di intendere il turismo è un problema molto grosso vedo tra i problemi che ci sono forse quello che è più grosso perché è proprio un'industria turistica l'altro giorno ho fatto una lezione a Matera all'università e una ragazza ha detto ma davvero perché lo chiamate turismo ha detto noi che lo chiamo io turismo cioè se esistono le agenzie che fanno questo tecnicamente stiamo parlando di turismo quindi purtroppo succede anche questo quindi bene tenerlo conto per cercare un po' di fare solo le cose belle nel turismo andiamo avanti vediamo che sono le 11 e 10 abbiamo un altro po' di 20 minuti poi facciamo una pausa parlando di buone pratiche come quella della formazione dei dipendenti ho sentito di una cosa che può essere utile anche qui in Puglia ricollegandomi al concetto delle comunità locali ovvero di alcune località turistiche già mature insomma dove il turismo di massa si era molto diffuso si stavano iniziando chiaramente a perdere tutta una serie di attività tradizionali economiche oppure anche una serie di leggende di tradizioni quindi alcuni turoperatori hanno colto invece in questo un potenziale perché ad esempio alcuni balli o alcuni canti potevano diventare un elemento oltre che tradizionale da andare avanti quindi preconfezionato in un pacchetto poteva effettivamente diventare un elemento da come dire che potesse creare un legame tra le nuove generazioni che andavano perdendo queste tradizioni e invece gli anziani magari di questi paesini nello specifico si parlava di un arcipelago insomma di alcune isole e quindi questi turoperatori hanno fatto in modo che si ricreasse questo legame anche sociale tra i giovani e tra gli anziani per cui i giovani hanno appreso dagli anziani queste attività e questi elementi tradizionali con la finalità di farli conoscere i turisti però in questo modo si è creata anche un collegamento che porterà nel tempo delle attività che altrimenti si sarebbero perse quindi questo potrebbe essere magari anche per noi un modo per rivalorizzare delle attività tradizionali che si stanno perdendo sì e questo è un altro delle problematiche la prima era una delle accuse maggiori che si faceva al turismo cioè voi incentivate i giovani a lasciar perdere appunto i lavori tradizionali per darsi al turismo è una critica come dire sinceramente per quanto esiste appunto poi o trovi un modo per far sì che uno abbia voglia oppure non è che posso costringere il figlio del pescatore a fare il pescatore non si vede perché allora l'idea di un turismo che deve cristallizzare la situazione perché noi siamo contenti che poi quello fa il pescatore fa un po' ridere sinceramente assolutamente fuori luogo invece l'idea che il figlio del pescatore abbia voglia di fare il pescatore perché anche grazie al turismo trova un suo interesse magari per il semplice fatto che incontra gente perché invece dovrebbe andarsene lui da qualche parte se lo trova che arriva quello sicuramente sì sul tema della banalizzazione diciamo o della rivalorizzazione delle tradizioni qua abbiamo veramente 40 anni di studi 40 anni di studi in cui si sono detti di tutti i colori vari studiosi tra chi diceva che il turismo banalizzava nel senso che dicevano sì vabbè ho capito prendiamo una tradizione che si sta perdendo facciamo la danza tipica facciamo un esempio qualsiasi così arrivano i turisti non voglio fare esempi critici sul Salento perché ho scritto un libro e siamo salvati dalla Taranta e l'ho detto diciamo ho detto tutto e quindi questo rivalorizza la tradizione fa sì che i giovani non perdono la tradizione e le persone dicevano no non succede così succede che in realtà tu stai facendo una cosa solo per uso turistico le persone lo fanno solo per farsi soldi e quindi in realtà tu stai solo banalizzando il termine tecnico e folclorizzando diciamo una tradizione questo diciamo era un filone di studio poi l'altro filone di studio lui ogni anno andava a vedere a fare interviste eccetera eccetera e lui nel tempo ha cambiato posizione allora all'inizio era un fattore del fatto che se tu come dire riproponi ai turisti le danze tribali di Bali che erano danze sacre eccetera in realtà stavi rendendo un favore alla tradizione perché si rivalorizzava poi dopo un vent'anni ha detto non ho aspettato ho sbagliato mi sono reso conto che era una cosa che ho pensato così al momento ma in realtà poi vedendo come è andato a finire è andato a finire proprio che invece ormai qualsiasi cosa spacci per danza sacra di Bali tanti turisti non capiscono niente sono tutti contenti e data lezione è andata a farsi benedire alla fine molto cantiano devo dire questo picare è arrivata una sintesi di questi due estremi dicendo ma effettivamente poi dipende da come va proprio da se c'è un un processo che porti alla rivalorizzazione non è automatico non è automatico neanche il contrario non è detto che ci sia folclorizzazione non è detto neanche che ci sia rivalorizzazione in maniera automatica dipende molto da come vanno avanti i processi e da come vengono portati avanti per cui io qui sarei molto cauto è chiaro che io la banalizzazione è facile che avvenga è molto più facile che avvenga la banalizzazione ma lo vediamo in Sardegna qualcuno prima ha fatto un esempio sulla Sardegna in Sardegna cioè tu vai spesso ormai in certi agriturismi con il pacchetto tutto compreso bla 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 e trovi queste persone vestite in modo tradizionale che ti fanno il porceddo fatto alla maniera tradizionale bla 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 poi vai a parlare con la gente del luogo e dice guarda questa cosa ma dalle nostre parti non si è mai fatta proprio perché Sardegna uguale ormai è diventato negli stereotipi allora succede questo qual è il problema? il problema è che il marketing turistico che è quello che ci permette poi a noi operatori di andare avanti per vendere dobbiamo fare marketing dobbiamo promuovere il turismo tende a esaltare una serie di aspetti i famosi attrattori io se voglio farti vendere nel parco dell'Alta Murgia sceglierò quali sono gli attrattori che secondo me possono essere interessanti finché lo faccio io che ho una certa etica vabbè tenderò a promuovere un qualche cosa che possa essere veramente interessante reale e insomma che abbia un valore aggiunto sul territorio a un punto di vista sociale se sono un operatore che mi interessa solo portarti nel parco dell'Alta Murgia e mi sono letto che lì c'era una cosa così io te la rivendo anche se non esiste più io ti trovo che te la rifà paro paro e non me ne frega nulla se sia folklorico o meno allora come sempre poi è molto difficile insomma riuscire un po' a trovare la dritta di queste cose bisogna stare secondo me è possibile è possibile rivalorizzare in Spagna ci sono molti di questi fenomeni di rivalorizzazione di antiche feste dove effettivamente il turismo ha dato la voglia di riprenderle e come dicevi tu poi di riappropriarsene anche c'era un famoso studioso che diceva la soluzione sarebbe dividere le attività che si fanno per i turisti da quelle che si fanno per se stessi che è una cosa che succede a me è capitato in campagna a molte feste popolari tu hai la piazza con le tammorriate la festa dove tutte le persone di fuori vengono e stanno bene sono felici e poi nei cortili in posti che il turista non verrà sapere che sono i posti degli atoc e i pochi invitati quindi le persone che sono entrate in contatto con le persone ci sono queste feste che sono simili da un punto di vista estetico però hanno un valore che è molto più forte è il loro momento in cui stanno festeggiando quindi c'era questa appunto l'idea di creare questa divisione tra ciò che è recitato e ciò che è reale però c'è un problema che se a me i turista mi vendono una cosa sapendo che è recitato io non ci vado se me la vendono come autentica io ci vado anche se poi non è vero cioè questo è un problema del funzionamento del turismo che è molto delicato come questione andiamo avanti altre cose poi facciamo una pausa di una decina di minuti fra poco buongiorno a tutti ciao io sono Francesco con Claudio stiamo ristrutturando un palazzo antico nel centro storico di Lecce per avviare un bed and breakfast che sarà pronto poi il Natale 2013 si spera se tutto vada bene la mia domanda era questa come è l'associazione turismo responsabile voi vi preoccupate anche di selezionare poi le strutture che rispondano a determinati requisiti per poi essere sponsor cioè far parte del vostro magari agenzia o tour che consigliate come vengono classificate queste strutture nel senso che appunto siete voi che vi preoccupate di andare a guardare tutti gli aspetti perché io diciamo avviando l'attività le cose da guardare sono milioni cioè io essendo sicuro che un fornitore rispetti determinati requisiti più sostanzialmente che altri sì me ne preoccupo però non è che veramente io posso andare a guardare tutti gli aspetti di questa cosa perché noi nella creazione dei tuoi itineranti quindi non sto in un posto e non vado ad anello ma noi non cercamo di creare proprio dei tuoi itineranti e non troviamo un'informazione centralizzata dove ci sono tutte le strutture che rispondono a determinati requisiti quindi a volte mi sentite uguale è vero per lo strumento ah ok scusami allora dicevo che noi anche nella costruzione dei nostri percorsi itineranti abbiamo lo stesso problema cioè come facciamo a reperire le informazioni per sapere se effettivamente l'ostello piuttosto che il bed and breakfast l'agriturismo sia realmente ecosostenibile eccetera eccetera perché poi spesso in realtà poi ci troviamo in situazioni in cui io parlo sempre del mio territorio che conosco meglio in cui le aziende agrituristiche hanno tutto tranne che di agriturismo sono ristoranti da 400 coperti dove si dà anche il pesce allora però purtroppo magari è l'unica struttura perché poi non è che posso andare sì lo faccio anche però in tutte le campagne per capire dove sta il bed and breakfast piuttosto che quindi effettivamente quali sono i criteri e se effettivamente c'è poi un chiamiamo un ente che può essere l'ATR a cui attingere queste informazioni grazie allora ne parliamo diciamo di questo proprio ora nella parte pratica nella seconda parte anticipo solo una cosa ITR è una una rete di realtà non è un operatore turistico giusto per capirci quindi ITR non fa un lavoro di questo tipo sono i singoli operatori che poi si attivano vi faccio un esempio personale la nostra associazione da vari anni ha attivato un percorso un circuito di alloggi per selezionare gli alloggi in maniera un po' diversa da quello che normalmente si trova che sono riferito all'ambiente appunto proprio perché ci sono resi conto che c'era questa mancanza e quindi ora questo insomma fra un po' dovremo ripartire stiamo pensando di trasformarci appunto in agenzia immobiliare perché per farlo in maniera professionale poi devi avere una realtà una ditta che faccia proprio insomma l'agenzia immobiliare e poter fare queste transazioni per cui l'idea è di fare un portale del turismo responsabile delle strutture recettive così come ci sono tante altre piccole realtà singole che stanno aggregando perché hanno interesse ad avere appunto queste mappature è chiaro che questo ad esempio è un ottimo cioè già questo portale che ci hanno appunto presentato poc'anzi è un'ottima cosa perché poi sul discorso diciamo del controllo eccetera ne parliamo subito dopo perché vedo entriamo proprio nel vivo del che significa fare turismo responsabile quindi ne parliamo in maniera più approfondita ultime domande poi facciamo passo da 11 e 20 sono un perfettissimo orario veramente ciao a tutti Francesco da Molfetta anche io buon Francesco consorzio non lo so mi è venuta in mente questa parola qualcuno mi sa dire per esempio cosa è un consorzio può essere utile alla risposta a Francesco mi è venuta così cioè un consorzio probabilmente nel pomeriggio se ne parlerà con la certificazione ambientale le strutture ricettive l'agricoltura biologica la certificazione ambientale il consorzio farebbe parte un consorzio per esempio farebbe parte di questo tipo di discorso potrebbe far parte ti do solo una risposta tecnica il consorzio è un modo di aggregare e può far parte vuol dire nella sua base diciamo nella sua mission ci sta quello di fare questo ci sono gli attori quello dipende un po' da che tipo di consorzio uno crea questa potrebbe essere una risposta quello che poi Francesco penso voglia fare la rete che abbia determinati parametri simili comuni di comuni intesa diciamo green per essere così sintetici si aggiungo solo una cosa di questo non ne parliamo perché poi ne parlerete in maniera più approfondita anche nel pomeriggio sul tema del chi controlla e quindi fondamentalmente anche dei parametri tu prima mi chiedevi dei parametri c'è un problema secondo me quando si parla di qualsiasi tipo di parametro poi porta molto all'idea della certificazione ripeto poi so che ne parlerete approfonditamente uno dei grossi problemi ad esempio delle certificazioni è questo da un punto di vista di motivo per cui nascono non nascono per farsi identificare per cui chiaramente io faccio un qualsiasi marchio ne nascono ce ne sono tantissime in Europa perché voglio vendere voglio far sì che il cliente mi identifichi subito pensiamo al biologico allora io se conosco l'azienda agricola che pur se non è biologica certificata la conosco che ha delle cose molto naturali posso andare a comprare ma quanta gente la conoscerà poche se invece ho un marchio bio probabilmente che magari è anche internazionale ho molte più possibilità questo è un dato di fatto quindi nasce da per questo e funziona per questo uno dei problemi che hanno tutti i parametri e che e su cui noi del turismo responsabile come dire anche come ATR ci stiamo dentro con un piede e fuori con un altro volutamente è perché è difficile trovare dei parametri che possono essere mondiali dico mondiali perché la tendenza giusta per esempio dal punto di vista dei marchi è dire il marchio più importante è quindi più trasversale internazionale e più rende perché io mi collego dal Nord America e trovo che in Italia c'è proprio quella struttura o quel servizio che cercavo che appartiene a quel marchio la difficoltà è che mentre come dei parametri ambientali di cui parlerete vabbè sono abbastanza tecnici insomma ci può anche stare che uno li faccia il problema è sempre sociale vi faccio un esempio che è capitato a noi appunto quando creiamo questo perché noi abbiamo creato questo diciamo circuito di alloggi con una modalità diversa perché all'epoca le strutture che insomma con cui noi interagivamo noi avevamo una serie di strutture dove mandavamo i turisti eccetera quando poi volevano farsi che ne so certificare dicevano facciamo un marchio e cerchiamo di entrare in un marchio di quelli che già esistono eccetera che era molto più comodo ed erano marchi ripeto molto ambientali all'epoca avevano i 20 anni fa ambiente e sud Italia erano due cose due concetti che non andavano molto d'accordo fra loro nel senso che la parola pannello solare non dico fotovolta era solare e chi l'aveva mai visto cioè 20 anni fa un pannello solare al sud era una rarità e allora il problema qual è che se io faccio ho un parametro prendiamo il pannello solare è una cosa bellissima cioè chi può dire che il pannello solare sul tetto non sia un'ottima cosa per un bed and break su un hotel un agriturismo e quello che è ma se io sto in una zona dove non c'è cultura non c'ho negozi pannello solare si può comare anche via internet ma non c'ho quindi che ne so dei tecnici qualificati che magari mi sappiano o me lo sappiano installare costa moltissimo perché magari ora ci sono ma all'epoca non c'erano subvenzioni statali e cose varie so che la Puglia l'ha messo per un po' poi non so se se ci sono ancora allora io mi trovo che sto in una situazione che non è quella della Scandinavia di vent'anni in età dove invece pannelli solari quanti ne vuoi nonostante c'è un pochissimo sole paradossalmente allora io dovrei riuscire a tener conto anche di quello che mi offre il territorio perché molto spesso non è tanto se c'ho meno il pannello solare questo sto dicendo dal mio punto di vista personale ma è cosa ho in più rispetto a quello che è il mio territorio allora magari c'è una cosa che è poco rispetto a una scala di valori molto più diciamo graduata che c'è tanti scalini che salgono però quel poco è molto di più di quello che c'è nel mio territorio secondo me quello è virtuoso nel senso una persona la chiamiamola un'avanguardia una persona che sta innescando un meccanismo non mi ci devo fermare però a me interessa che voglio dire che non sia visto come uno che invece è poco virtuoso perché sta solo allo scalino numero uno mi interessa che sia rapportato sempre a a quello che offre la comunità locale la società insomma quindi è un tema delicato su cui non ne parlerò io perché ripeto ne parlerete voi più là però è problemato ITR insomma tiene un come dire ci sta dentro e allo stesso tempo insomma sa che c'è questo problema un altro problema che sa il TR per esempio è che ora si fa c'è molto questo discorso ho scritto proprio un posto sul mio blog l'altro giorno su TripAdvisor c'è ora questa tendenza a usare molto questi social network per fare i feedback o per leggere i feedback degli altri ecc è una cosa molto interessante nel senso che se vogliamo è per chi lo usa correttamente quindi al di là di tutte le problemate problemiche i finti commenti eccetera eccetera a pagamento e tutto che ce ne sono tantissimi però diciamo che tecnicamente è carino il fatto che io vado a leggere quello che ha scritto un altro fruitore del mio servizio trovo magari in più o in meno qualche cosa che mi convince e quindi faccio una scelta in positivo e negativa il problema è sempre lo stesso ma siamo sicuri che i turisti in generale quindi in una località vogliono le stesse cose che poi la comunità locale ha voglia di offrire cioè se io arrivo e voglio come c'è in Sardegna e voglio il purcedo e non trovo il purcedo scriverò che ah questi non sanno fare niente eccetera ma se magari insomma quello che io mi sento di esprimere è un'altra cosa insomma sarebbe bene sapere anche come dell'altro punto di vista purtroppo non esiste social network che fanno parlare le comunità locali per cui diciamo questa cosa sarebbe da sviluppare magari qualche informatico potrebbe cogliere per fare un passo avanti facciamo pausa 11 e mezza siamo in perfetto orario nella pausa ho sentito alcune cose interessanti volevo riprendere al volo proprio un minuto perché restavano diciamo due problematiche che non abbiamo trattato ovviamente quelle ambientali non c'era bisogno di trattarle perché sono quelle molto più semplici da percepire la cementificazione il problema idrico sono cose che non a caso diciamo sono i primi problemi che vengono evidenziati nel turismo il problema che ne so dei troppi rifiuti che si creano durante la stagione estiva soprattutto in questi casi durante la stagione estiva quando diciamo c'è un aumento del flusso turistico due problemi diciamo invece sono non sono stati citati quindi li dico perché insomma comunque è sempre importante che ne teniamo conto uno l'ha detto Lulù prima durante la pausa il discorso che molto spesso capita io l'ho visto quando abitavo in Salento che c'è un aumento incredibile del costo della vita cioè molto spesso succede ed è un problema molto grosso che in tutto il mondo qui compreso abbiamo è che nei momenti in cui si sviluppa diciamo un fenomeno turistico molto spesso il costo della vita rincara e chiaramente chi ne ha diciamo chi ne soffre diciamo la problemà di questo aumento del costo della vita è chi abita nelle destinazioni turistiche questo è un problema molto grosso su cui non ci si interroga quasi mai e non si fa quasi mai nulla per far sì che la popolazione possa in qualche modo riuscire a rimanere a vivere nei luoghi turistici pensate ai centri storici delle grandi città d'arte italiane vivere in quei posti ormai è diventato impossibile il costo di una casa tanto per non andare troppo diciamo in là con gli esempi è molto più alto di quello che magari poteva essere un tempo quando non era diciamo un luogo turistico quindi questo è un problema che esiste diciamo teniamone conto e ci fermiamo qua un altro problema che viene spesso associato al turismo in questo caso io direi può capitare anche l'anzo non è detto che capiti viene spesso diciamo sottolineato che l'aumento del flusso turistico indiscriminato quindi di tante genti diciamo diverse porta spesso a un aumento soprattutto in località molto tranquilla eccetera un aumento di problematiche legate alla criminalità di vario tipo non sto qui ora insomma a sottolineare tutti gli aspetti questo giusto per finire un po' la panoramica diciamo di ciò che sono i potenziali problemi legati al fenomeno turistico veniamo quindi ora alla parte più diciamo che ci interessa che è quindi il discorso del turismo responsabile ovviamente abbiamo fatto già gran parte di quello che dobbiamo fare perciò ho dato più spazio a questa prima parte una volta capito che il turismo può portare i problemi che questo non è un fatto vuol dire grave non c'è da demonizzare il turismo per questo ma anzi bisogna semplicemente tenerne conto e agire e una volta tenuto conto che esistono questi quattro attori che volente o volente bisogna in qualche modo fare interagire possiamo capire bene diciamo anche cosa è il turismo responsabile nel 2002 diciamo c'è stato una delle più importanti realtà di turismo responsabile che ha dato una definizione molto simpatica e breve di turismo responsabile definendolo un'attività che fa sì che sia le persone che ci vivono sia i turisti possano stare in luoghi che siano diciamo abitabili è una frase proprio semplice sintetica che può diciamo andare bene e anche avanzare senza che ci mettiamo a parlare di tutti i tantissimi criteri o pensieri che ci sono attorno al turismo responsabile diciamo solo che tra le varie filosofie sul turismo responsabile soprattutto in Europa c'è un po' una differenza tra gli anglosassoni e i paesi latini proprio sul ruolo delle comunità locali però non ne parliamo oggi diciamo che è un dato di fatto ci sta diciamo che per i paesi anglosassoni fare turismo responsabile significa avere un'industria turistica che si comporta bene che si comporta meglio quindi in maniera più etica e avere turisti che siano più etici nei paesi latini c'è anche un'attenzione maggiore al protagonismo delle comunità locali sono idee insomma sono approcci ognuno poi ripeto lo mette in pratica come meglio crede diciamo che è una filosofia l'ho detto all'inizio è una filosofia e non una forma infatti quando parliamo di turismo responsabile oggi dato per scontato tutta questa evoluzione anche del pensiero rispetto al turismo quindi non il demore non qualcosa da combattere ma qualcosa da migliorare è chiaro che anche il concetto di turismo responsabile si è allargato era nato appunto per i viaggi nel sud del mondo storicamente in tutto diciamo le nazioni europee era nato per appunto questi viaggi fatti nel sud del mondo dove i problemi erano maggiori da quello che ci siamo detti insomma penso che avete capito che i problemi creati laddove non c'erano già una capacità di accoglienza di qualsiasi tipo chiaramente si è dovuto inventare tutto da capo e questo ha creato diciamo molti più problemi quindi nascono per quello quindi nascono molto con una motivazione solidale infatti soprattutto in Italia ma non solo sono le ONG i primi a fare questo tipo di viaggi in Italia poi avviene una cosa importante AETR appunto è stata la prima realtà europea che ha detto attenzione il turismo responsabile non può essere solo il turismo diciamo legato alla cooperazione allo sviluppo per capirci o a tematiche simili per esempio in Francia ci sono delle realtà legate al commercio costiturale che fanno questi tipi di viaggi ma è un modo di intendere il turismo quindi si può fare anche in Italia e vi dico che la mia associazione ad esempio è nata come progetto già nel 97 perché già all'epoca mentre nasceva AETR sì c'erano questi germi del dire vabbè ma non è solo la solidarietà che andiamo a fare con i paesi del sud del mondo che poi a volte può diventare anche stucchevole per certi versi eccetera ma è come facciamo turismo e quindi facciamolo anche qua in Italia e quindi nasce l'idea di fare turismo responsabile qua in Italia la situazione al momento è la seguente diciamo come quadro europeo allora in Italia abbiamo questa carta che vi ho fatto distribuire che è la carta Italia del turismo responsabile si chiama carta Italia bel paese buon turismo perché è mutuata dalla prima carta che fece l'ETR appunto la prima che fece era dedicata ai viaggi nel sud del mondo poi ne hanno fatta un'altra dedicata invece insomma ai viaggi in Italia e come potete vedere l'ETR mutuando una realtà tedesca degli anni 80 l'ha voluta dividere per i tre attori quindi voi troverete cosa si dovrebbero fare secondo l'ETR le comunità locali cosa gli operatori turistici e cosa insomma i turisti se non ricordo ma no questo perché la concezione ripeto di ETR è molto articolata ci sono più attori e ognuno deve fare qualche cosa altrove diciamo ci sono carte meno dettagliate spesso rivolte solo ai turisti o solo agli operatori turistici quindi ETR è un caso diciamo in Europa all'avanguardia più diciamo e ovviamente questa carta viene usata poi anche da molti operatori che non stanno in ETR ma la trovano interessante diciamo come dire di stimolo e quindi la usano senza nessun problema se vogliamo più dell'ETR c'è solo diciamo il caso del Sudafrica in Sudafrica è stato il governo sudafricano proprio il governo a dire facciamo un proprio un regolamento di come deve essere il turismo responsabile e quindi c'è un incredibile articolo sono 50 pagine su tutto ciò che si può e che non si può fare con tutta una serie di vincoli proprio perché partono dall'idea che il turismo ok ma siamo attenti quindi diciamo il proprio governo sudafricano che diciamo è a livello mondiale diciamo considerato l'esempio più avanti di tutti in Europa la situazione è un po' diversa ripeto perché c'era quest'idea sempre molto di tipo solidaristico all'inizio associato al turismo responsabile che appunto grazie all'esempio degli italiani invece ora si sta sviluppando anche altrove sono stato l'anno scorso a fare ricerche in Spagna sempre sul turismo responsabile e ad esempio un po' anche per colpa delle varie crisi che ci sono state politiche nel nord Africa dove c'era la maggior parte delle destinazioni insomma con cui viaggiavano gli spagnoli per cui viaggiavano gli spagnoli hanno iniziato anche loro a dire beh certo però alla fine perché non farlo anche nel centro della Spagna o in Portogallo o comunque insomma un turismo di prossimità quindi si sta evolvendo questo discorso alla domanda quindi qualcuno mi faceva prima cosa troviamo allora in questo momento troviamo questo documento che è importante è un documento interessante un documento di simbolo che poi ognuno attua come meglio crede e poi dopo lo vediamo un pochino assieme in secondo luogo ci sono diverse forme allora perché appunto abbiamo detto che una filosofia poi ci sono delle forme allora abbiamo faccio casi italiani così è più semplice abbiamo partendo ad esempio dalla Sicilia in Sicilia abbiamo diverse realtà che lavorano molto sul tema del turismo e la legalità turismo e la criminalità criminalità organizzata quindi in quel caso la mafia come lavorano fanno dei tour bellissimi perché il turismo responsabile non è la campo lavoro non è la vacanza può anche essere quello ed è bene che chi lo voglia fare lo faccia ma è anche relax è anche qualsiasi cosa l'importante è non spegnere il cervello noi diciamo sempre l'importante è che il cervello resti attivo poi per il resto io direi ben venga che uno si faccia la vacanza relax però io cosa ti faccio vedere allora ti porto ad esempio a Palermo è molto bello io l'ho fatto qualche mese fa che andai a trovarli avevo una mappa perché loro sono appunto sono collegati ad adiopizzo una mappa con tutti gli esercenti che si rifiutano di pagare il pizzo per cui non è che io da turista in quel caso individuale dovevo fare che ne so il tour politico oppure discussione quindi semplicemente andavo se ne avevo voglia chiaramente liberissimo di farlo nei luoghi indicati da questa mappa quindi è lo stesso concetto delle mappe che troviamo in tutte le città che ti danno delle indicazioni semplicemente con una connotazione in questo caso sociale quindi è un tipo di turismo una forma turistica in questo caso di turismo sociale che stanno applicando in particolar modo a Palermo e negli intorni anche a Napoli ora stiamo iniziando noi altre realtà iniziano a fare la stessa cosa insomma è ben venga che sia un filone chiaramente perché è interessante questo perché si parte da un problema del territorio allora partendo da un problema del territorio che possiamo fare noi come operatori turistici per fare anche una cosa simbolica ripeto sicuramente non è che stanno facendo la rivoluzione ma stanno dando il loro contributo da operatori turistici che ci guadagnano perché lavorano la gente viene hanno in particolar modo scolaresca tutta Italia e non solo e questa cosa piace molto poi abbiamo ad esempio sempre del turismo sociale quindi sto analizzando prima la forma del turismo sociale abbiamo una bellissima iniziativa che fanno a Torino e che ora si è sviluppata a Firenze a Roma e fra un po' dovremo farla anche a Napoli in partenariato Viaggi solidali ha ideato praticamente le visite fatte dai migranti allora le persone che non sono di Torino originarie ma che vivono a Torino da tanti anni portano i turisti a scoprire il territorio secondo il loro punto di vista che ovviamente è diverso da quello che può avere uno di Torino e questo quindi è un altro tema il tema dell'interculturalismo nei luoghi dove c'è una grossa presenza di migranti di qualsiasi tipo può essere il meridionale al nord o qualsiasi altra persona che venga da qualsiasi parte del mondo e diciamo come dire questo esperimento si è rivelato molto felice anche lì si è partiti da tessuto sociale cosa mi offre il territorio quale problematiche mi offre quindi il turismo sociale cerca un po' di nel turismo responsabile di partire da una problematica reale altri esempi dal punto di vista di ovviamente naturalistico e quindi legato un po' al turismo sostenibile per usare il termine appunto relativo un po' più all'ambiente abbiamo moltissime realtà di escursionismo abbiamo quindi diciamo viaggi a piedi e tante altre realtà che si caratterizzino ovviamente per il basso impatto ambientale quindi tutte le loro scelte sono molto diciamo legate a questo discorso per quello che si può fare è chiaro che poi spostarsi da una volta all'altra spesso comporta diciamo degli usi di mezzi vari che inquinano però insomma il turismo responsabile ripeto non è la panacea di tutti i mali è un tentativo reale di coniugare attività turistica con certe problematiche e quindi di dare un modo diciamo per migliorare un po' la situazione quindi diciamo tutta la parte delle forme di turismo sostenibile che sono presenti in ATR ce ne sono di vario tipo da chi ha restaurato vecchie imbarcazioni e quindi va sui fiumi a chi appunto si occupa di cavalli a chi si occupa di biciclette insomma sta aumentando questo questo discorso di realtà che lo fanno molte sono in ATR e molte altre lo sappiamo ce ne sono tantissime anche qua in Puglia di esempi ne conosco tantissimi che non hanno ancora incontrato ATR e quindi questo concetto ma fanno benissimo il loro lavoro e quindi diciamo quell'etica diciamo e quell'attenzione all'ambiente che è chiaramente importantissima cosa altro abbiamo abbiamo poi oltre diciamo a queste forme quindi del sociale e del sostenibile il discorso dell'incontro quindi del turismo comunitario se vogliamo chiamarlo così che è un'altra parte importante in genere in tutti i viaggi di turismo responsabile c'è quello che tu auspicavi prima c'è il discorso della curiosità verso le persone io dico sempre un luogo è bello non solo perché diciamo c'ha qualche cosa di bello da vedere ma perché evidentemente qualcuno l'ha preservato e chi lo preserva in genere chi ci abita per cui secondo me è sempre molto stimolante e interessante andare a conoscere le persone chi fa turismo responsabile le persone le realtà poi in base a chi insomma le situazioni sono diverse le proposte sono molto diversificate le une dalle altre ci sono realtà come in Sardegna gli amici di Domus Amigas che sono un'associazione di ospitalità diffusa e quindi loro gestiscono tutta una serie di bed and breakfast nasce da una storia di crisi del sud iglesiente per cui il discorso dei minatori che non lavoravano più nelle miniere e le mogli si sono inventate diciamo questa formula per continuare a far sì che insomma ci potesse essere sviluppo per cui hanno creato questa bellissima associazione siamo a centro di autosviluppo centro di autosviluppo Domus Amigas e è partita questa attività è andata molto bene chiaramente essendo una comunità fanno delle attività per loro dove poi le persone i turisti si trovano e parteciano però questo è un modo molto bello di fare turismo comunitario quindi in cami viceversa chi fa turismo comunitario out to go quindi manda persone da qualche altra parte in genere cerca sempre di avere dei momenti di incontro ripeto con situazioni interessanti noi andremo in Salento con la mia associazione fra due settimane e stiamo contattando una serie di amici che per diversi motivi hanno si occupano del territorio di tematiche che interessano alle persone che fanno il viaggio poi decideremo se sarà quella di made in carcere piuttosto che quello del CEA che si occupa di ambiente o qualsiasi altra cosa questo noi lo facciamo scegliere viaggiatori però ecco ogni territorio ha tanto da offrire di passione secondo me è un fatto di passione cioè far vedere che in un territorio c'è gente appassionata e qui serve la rete e qui qua torniamo al discorso che è chiaro che io se non conosco la Sardegna o me l'invento ok quello che succede nel turismo classico io ho lavorato in un'agenzia di viaggio una volta fu bellissimo mi chiamò un'agenzia di viaggio amica e mi dice Sergio scusa mi devi dare una mano sto facendo un viaggio a Praga io ero esperto diciamo di Europa dell'Est devo fare un viaggio a Praga ho bisogno di sapere quanto tempo ci metto ad arrivare dal castello a Hradciani e io faccio in che senso che mi stai chiedendo no perché praticamente vogliamo fargli fare questa visita per cui ho visto che ci sta il castello poi ho visto che c'è Hradciani volevo capire quanto ci metto e io ho detto guarda ci metti zero perché la traduzione di castello in cieco è Hradciani per cui mi stai chiedendo quanto tempo ci metto a stare in un posto senza muovermi quello è il modo di organizzare gli agi normalmente cioè quello non sapeva neanche cosa era Praga aveva preso due guide diverse uno c'era scelto Castello l'altro c'era scelto Hradciani e ha detto ah quasi quasi le unisco ecco per fare turismo responsabile c'è bisogno non dico di conoscere tutti i posti perché è anche difficile non è detto così però avere dei contatti allora se io so che nel Barese oppure nella Murgia ci sono persone nell'alta Murgia ci sono persone che la pensano come me è molto interessante è molto utile creare rete di fatto poi attualmente questa rete va costruita nel senso che come vi dicevo alla fine tutte queste queste evoluzioni di cui vi parlo è vero che ha avuto diciamo questi germi già alla fine anni 90 ma poi finché si riusciva a fare questa carta che è già successiva del 2002 se non ricordo male e poi pian piano sperimentare le situazioni passa un po' di tempo quindi oggi possiamo dire che ITR è pronta per fare il suo ripeto ITR non è un operatore non ha nessun interesse diciamo a fare pubblicità ai singoli operatori gli dà sul sito la possibilità di promuoversi quello sì ovviamente sì ma più che altro fa da collettore per cui che ne so chi sta in ITR può andare alle fiere quelle dedicate a un target interessante che ne so le fiere sull'economia solidale a Milano fa la cosa giusta piuttosto che Terra Futura che si farà ora a Firenze e piuttosto che altre anche alcune un po' più diciamo tecniche dividendo le spese cercando di fare comunità quindi diciamo lo scopo di ITR è stimolare un discorso di comunità diciamo di rete fra operatori questo sicuramente sì non fa assolutamente niente altro che questo ma è una cosa molto importante poi facciamo formazione ovviamente e soprattutto ora abbiamo anche le case editrici che ne fanno parte per cui ora su tutte le guide che escono c'è sempre una parte dedicata al turismo responsabile e a eventuali operatori presenti sul territorio quindi diciamo quello che offre ITR sono possibilità di crescere assieme e secondo me dal mio punto di vista non perché ne faccio parte ma proprio perché lo studio anche per i miei studi diciamo a prescindere da ITR sul turismo responsabile quello che manca alle altre realtà di secondo livello in Europa è proprio questo è proprio quest'idea che tu non devi sostituire l'operatore poi l'operatore decide quante fiere fare se andare a Berlino piuttosto che a Bruxelles piuttosto che tu cerchi di fare un lavoro di tenere assieme per cui a me mi hanno chiamato ieri da Firenze dicendo guarda anzi l'altro ieri tre giorni fa ovviamente c'è una realtà di ITR che non ha i soldi per partecipare volete venire anche voi così dividete il costo della fine cose di questo tipo perché ITR diciamo ha questi contatti quindi cerchiamo un po' di andare un po' oltre i canali commerciali tradizionali questo perché chiaramente è un turismo questo del turismo responsabile in Italia che si sta sviluppando ora in questi anni quindi deve ancora crescere deve fare molto per crescere deve rafforzarsi e a mio avviso si rafforza solo se facciamo forza comune noi ora con la mia associazione stiamo promuovendo gli altri operatori che fanno turismo in Italia ma lo stiamo facendo non perché ne abbiamo un tornaconto immediato è un tornaconto comune cioè se questa cosa diciamo si entra nella testa di tutte le persone che viaggiano riusciamo a andare oltre un problema che c'è e che insomma bisogna sempre sapere che poi appunto noi possiamo fare le proposte come diciamo prima più belle di questo mondo ma se poi non abbiamo i turisti le nostre proposte restano nel cassetto attualmente il target che si riferisce al turismo responsabile in Italia è molto quello del terzo settore che vuole andare a fare i viaggi in solidarietà nel sud del mondo e questo non solo in Italia succede anche in Europa far cambiare la mentalità far capire che il turismo responsabile è anche tanto altro e appunto escursionismo e tante altre situazioni interessanti ce ne vuole un po' e questo appunto è un lavoro che dobbiamo fare un po' tutti assieme quindi diciamo l'auspicio è che si cresca assieme e secondo me questo portale sarà un ottimo modo per farlo almeno in questa zona cosa altro c'è? ad esempio abbiamo una catena di alberghi sociali sociali in questo senso proprio nel senso del turismo sociale Le Mat è un consorzio svedese attivo molto in Italia anzi diciamo più in Italia se vogliamo che fa lavorare le persone che hanno dei problemi e quindi hanno aperto tutta una serie di alberghi dal nord al sud dove lavorano anche persone che hanno una serie di problematiche per cui non lavorerebbero normalmente diciamo in una qualsiasi struttura ricettiva e quindi diciamo proprio in questo caso prendono a pieno il valore del turismo sociale propriamente detto quindi più o meno questi sono diciamo i filoni quindi abbiamo detto il comunitario il sociale quello ambientale ovviamente del turismo sostenibile io non ho mai usato come avete visto la parola ecoturismo ma così lo diciamo giusto per per correttezza di informazione perché in genere la parola ecoturismo che è una bellissima formula può essere responsabile o irresponsabile come tutte le altre ovviamente dipende da come le fai però poiché è diciamo fondamentalmente legata molto al tema dei parchi per cui è chiaro che è un tema da usare diciamo soprattutto in queste situazioni perché noi cerchiamo di fare un turismo responsabile a 360 gradi per cui non lo consiglio per me va bene che poi lo usa l'operatore eventualmente la parola ecoturismo e se lo fa responsabile bene se no ripeto come tutte queste forme che ho citato possono anche essere irresponsabili non è che automaticamente chi fa turismo sostenibile ecoturismo fa qualcosa di buono sicuramente fa qualcosa di buono magari al suo business molto spesso non lo fa è il famoso problema del greenwashing di cui siamo ben coscienti nel senso che tu puoi avere l'idea più bella di questo mondo e trovi il termine più simpatico di questo mondo se poi arriva l'operatore a fianco a me che di etica non gliene frega nulla ma capisce che quel termine va tira gli piace è spendibile molto spesso capita quello che poi succede normalmente che è successo moltissimo col termine turismo sostenibile che viene utilizzato per come dire far vedere che una cosa è fatta bene e nascondere tutte le altre e questa cosa ovviamente è un po' un problema ovviamente non succede solo nel turismo pensate che ne so a qualsiasi prodotto voi vedete una pubblicità vi fanno notare una cosa bella di un elemento magari tutto il resto che magari non è non è pensata una macchina che ne so quello che vi fa è abbastanza normale fa parte diciamo della logica del marketing e il greenwashing esiste dobbiamo saperlo come facciamo a differenziarci allora molto semplicemente etr funziona così innanzitutto non è un'associazione dove si può entrare pagando la quota appunto questo è fatto a difesa dell'idea di turismo responsabile nel senso che se vuoi entrare in etr fai domanda c'è una commissione che valuta la tua domanda e che chiede anche alle persone agli operatori in zona se lo conosco a me è successo oggi proprio qualche mese fa con Matera mi chiamo e dice guarda ci hanno fatto richiesta da Matera e ho detto ah che bello finalmente diventiamo due facciamo rete aumentiamo ecc ha detto e chi sono mi dicono il nome e dico guarda non so che dirti personalmente non li ho mai sentiti però vabbè magari io non sono materano forse mi è sfuggito chiedo ai vari guidi insomma le persone che lavorano con noi mando queste mail ai nostri soci la risposta cioè in poche ore mi è arrivato cioè la casa si riempita di male parole diciamo che abbiamo citato allora cercò di capire chi fosse poi sono andato anche a vederli diciamo e effettivamente questa è una cooperativa di guida abusive che gira che è in perversa per i sassi di Matera che ferma le persone per strada con cartellini falsi eccetera eccetera cosa c'entrò loro col turismo responsabile non lo so avranno pensato ma questo nome è spendibile iscriviamoci per fortuna non abbiamo questo modo per cercare di evitare poi insomma queste situazioni proprio perché ripeto il discorso non è paghi e sei socio ma è se ti interessa quello che facciamo facciamo un percorso assieme è un'associazione molto democratica ora a fine maggio c'è l'assemblea a Bologna e lo scopo è fare appunto cultura di turismo responsabile questo diciamo per quanto riguarda ETR veniamo un attimo in ora alla carta la carta diciamo ce la guardiamo un attimo che ore sono vediamo quanto abbiamo sì tranquillamente allora vediamocela un attimo diciamo così assieme e poi magari cerchiamo anche di riprendere interagire abbiamo lasciato a posto il microfono libero per andare un po' a cercare un po' di capire meglio diciamo qualche dubbio o qualche cosa che volete sottolineare anche in positivo ora a parte i problemi l'abbiamo detta cerchiamo anche di andare sul propositivo quindi qualche cosa che già fate cioè interessante sentire un po' così quello che sta scritto nella carta vi sembra interessante ovviamente la prima parte è semplicemente una sana introduzione al concetto che è un po' quello che ho ridetto io poco fa la responsabilità del viaggiatore diciamo che riprende un po' tutti i documenti che dal 75 sono stati fatti per chiedere un comportamento etico tenete presente che anche qua nel sud del mondo la problematica è stata più forte vedete che parlo del sud del mondo è un termine che non si sa più per fortuna per capirci così non siamo troppo a farla lunga con i singoli paesi è stata forte perché? perché chiaramente il gap tra chi poteva permettersi il viaggio e chi non poteva permette assolutamente il viaggio come dice Bauman il mondo è diviso tra turisti e vagabondi cioè chi viaggia per scelta e chi viaggia per necessità quindi c'era proprio questa differenza molto forte all'epoca quando nacque il turismo fa sì che spesso i nostri atteggiamenti possono essere anche involontariamente ostili noi non dobbiamo pensare che il turista come dire irresponsabile per usare un termine un po' sciocco sia la persona che volutamente va a comportarsi male quello è una parte poi spesso anche noi per quanto possiamo essere animati dalla migliore etica ci comportiamo male facendo cose semplicemente che sono normali da noi ma non normali altrove allora uno dice vabbè ma io non sono d'accordo con quel modo di fare quella cultura locale perché dovrei uniformarmi no si tratta solo di rispetto tu sei un visitatore che passi e te ne vai come minimo devi rispettare quell'usanza poi non ti piace che si ne frega te ne torni a casa e fai quello che cavolo ti pare noi consigliamo sempre diciamo soprattutto nei viaggi ripeto in località più problematiche di stare attenti diciamo ad esempio a non dare dei giudizi come usi nuovi a fare al bar o in osteria ma di capire se diciamo quello che stiamo andando a dire ha un senso fare una foto per noi è la cosa più normale di questo mondo a me se mi fotografo mentre sto a Matera fumo una sigaretta fuori casa me ne frega lo capisco il turista vede qualcuno fa una foto me ne frega niente non mi ruba l'anima non succede però se io vado in un posto dove per un qualsiasi motivo che a me mi può sperare anche magari bizzarro questa cosa non è apprezzata e beh sarebbe corretto che io non lo faccia non so se vi ricordate l'anno scorso ci fu il rapimento in India di quei due italiani nel Kerala se non ricordo male c'era un operatore turistico italiano e il viaggiatore furono rapiti e le prime diciamo come dire informative che uscirono da parte di questi guerriglieri che li avevano rapiti fu che avevano avuto atteggiamenti osceni se non sbaglio il termine è proprio osceni a me la cosa è incuriosa perché perché ero andato a vedere appunto una volta l'hanno rapito ero andato a vedere chi era questa agenzia e sul sito di questa agenzia in realtà c'era un discorso molto intelligente loro dicevano fare foto nei villaggi diciamo dove andremo a fare non è consigliabile lo dicevano chiaramente quindi strano che fai foto se tu scrivi di non farle o sei scemo non solo ma poi era molto chiaro anche del tutto perché perché le popolazioni non apprezzano bla 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 e quindi il rischio è che ti prendi come si dice si con le frecce insomma non si dice ti spara ma ti lancia ti freccia ti freccia quindi era lui aveva ben spiegato visto che abitava quindi sapeva la problematica questa cosa quindi era chiaro che non era successo per questo ma erano motivi politici infatti poi per fortuna sono state rilasciati con tanto di scuse eccetera spesso ripeto noi non ci rendiamo conto che dei nostri atteggiamenti possono dare fastidio da noi questo anche succede quante volte vi sarà capitato di vedere il turista che poi può essere magari pure quello del paese a fianco comunque quella persona non del luogo che che ne so butta una carta a terra sulla spiaggia eccetera e dice ma guarda sto turista come si comporta male la differenza è che diciamo da noi e ora io spero anche altrove perché poi come sempre il turismo si evolve e anche la mentalità delle persone si evolve c'è una capacità maggiore di reazione cioè io se vedo una persona di fuori che si comporta male che mi butta una cicca nei sassi mi arrabbio poi fa ridere se sono io il primo a buttarla vabbè ma questo è un discorso di coerenza che dovrebbe sempre essere alla base di qualsiasi discorso etico per cui fondamentalmente diciamo bisogna stare attenti quindi è bene che il turista diciamo c'è questo regolamento scusate questi consigli se vogliamo sul comportamento del viaggiatore che vanno bene anche in Italia poi un'altra sottolineatura che faccio importante come vedete oltre alla differenza degli attori c'è anche la differenza dei tempi prima durante e dopo questo perché un viaggio inizia prima di partire e finisce dopo che si è tornato un viaggio di turismo responsabile non è un'attività effimera che parti e finisce sempre con qualche cosa a cui tu ti in qualche modo ti prepari ti prepari che poi chiaramente il prepararsi può significare semplicemente andarsi a guardare una guida o qualche cosa sul luogo dove vai insomma cose di questo tipo non c'è bisogno di chissà che cosa soprattutto quando parliamo di viaggi in Italia quello che ci interessa di più ovviamente insomma è la parte della responsabilità dell'organizzatore turistico qui troviamo tutta una serie di consigli sono consigli nessuno in ATR è tenuto a farli tutti non è proprio non è un codice un marchio eccetera è semplicemente una serie di consigli ognuno pesca in base a quello che riesce a fare che è importante e poi ne parliamo perché poi appunto nei forum insomma cerchiamo di capire dove migliorare e dove no qui ovviamente nella carta Italia è stato molto diminuito una serie di discussioni che invece venivano fatte che trovate nella carta diciamo per i viaggi nel sud del mondo per ovvi motivi cosa si chiede fondamentalmente all'organizzatore innanzitutto di essere trasparente questa non è una cosa tipica del turismo di massa turismo convenzionale chiamiamolo come meglio crediamo in genere appunto per motivi per attrarre tu cerchi fai carte false ti importa solo che vieni il turista noi vogliamo che il turista venga consapevole cioè io ti sto vendendo questo se ti piace viene se no io da qualche parte un turista che è interessato lo trovo se voglio fare una cosa nell'alta murgia di un certo tipo a che fare con l'ambiente devo farti capire che ti faccio questo punto senza stare troppo a cercare di fare carte false lo stesso varrebbe per la scheda prezzo trasparente diciamo molti operatori del turismo responsabile e ora anche un po' le strutture ricettive insomma stanno pensando di fare questo ti fanno capire un attimino che la composizione del prezzo non è una cosa come dire su cui cioè c'è bisogno di essere cioè io ce l'ho a guadagnare giustamente il mio lavoro ma ti posso anche far capire quanto stai spendendo che resta in loco per esempio così che tu capisci che effettivamente ti ho fatto ho fatto sì che il tuo la tua vacanza il tuo divertimento eccetera poi effettivamente poi sul territorio porca miseria insomma i soldi sono rimasti per cui in genere si fanno queste tabelle riassuntive in cui fondamentalmente si fa capire quanto resta sul territorio che è un bel modo secondo me di stimolare diciamo anche poi dall'altro lato un turista un po' più intelligente altre cose vabbè insomma le potete poi leggere tutte senza che mi dilungo troppo un'altra delle cose importanti diciamo che si chiede all'operatore è il discorso delle verifiche anche là la verifica non è una cosa pallosa la verifica è un feedback finale insomma chi lo fa più articolato chi meno chi se ne frega ma è un modo per lasciare traccia e far lasciare traccia allora io ti chiedo di dirmi qualche cosa dell'esperienza che hai vissuto perché voglio capire se quello che ho provato a venderti ti ha soddisfatto tu mi dici la tua e poi in teoria dovrei chiedere anche alla comunità locale se ho interloquito con la comunità locale se ho avuto dei servizi da gente e luogo senti tu che ne pensi in questo modo noi appunto andiamo oltre questi discorsi un po' effimeri diciamo dei social network dove c'è solo un tipo che parla ma cerchiamo di vedere un po' di quel viaggio le varie diciamo i vari punti di vista e come sempre quando e qua non facciamo non ci occupiamo più di turismo ma ci occupiamo semplicemente di interculturalismo cioè quando abbiamo diversi attori che interagiscono lo stesso territorio sentire i vari punti di vista può essere solo fonte di arricchimento e quindi bene farlo diciamo ovviamente anche lì poi ognuno la fa come come meglio crede un'altra cosa ad esempio che facciamo noi del vagabondo ma non solo noi il discorso informativo allora noi molto spesso soprattutto quando abbiamo turisti individuali dove è più difficile vendere un pacchetto il turismo individuale gli vende un servizio al più non vai oltre gli diamo in genere una piccola mappa allora quello che a Palermo fanno sul discorso diciamo della mafia noi lo facciamo semplicemente dando i consigli per l'acquisto quindi una sorta di consumo critico diciamo vada fossi in te io andrei qua qua e qua e ti spiego perché spiegare perché significa che io ti spiego che quel negozio che fa tufo che ne so facciamo l'esempio di Matera che mi viene facile lo preferisco a quell'altro per questo motivo poi tu puoi decidere a me di questo motivo non me ne frega niente lo trovo insignificante come motivo oppure ah era proprio il motivo che cercavo ci vado quindi sempre sempre nell'ottica non sono io a obbligarti non so chi di voi ha lavorato magari in agenzie di viaggio ha fatto l'accompagnatore io ho lavorato tanti anni come accompagnatore turistico e a un certo punto la gestione dice vada ti paghiamo meno perché tanto sappiamo che fai un sacco di soldi con lo shopping che era vero effettivamente ero molto bravo a fare soldi perché mi avevano insegnato come si faceva altri accompagnatori e funziona così funziona a Matera funziona a Lecce funziona ovunque cioè tu guida o tu accompagnatore fai accordi commerciali con il negozio di turno non perché ti è più simpatico cioè il prodotto migliore o per altri motivi che possono essere tra virgolette minimamente etici ma perché ti paga cioè io sceglievo i negozi semplicemente perché erano quelli che mi davano la percentuale maggiore portavo i gruppi ognuno si comprava un ninnolo qualsiasi magari che ne so i cristalli di Bohemia non so neanche quello dove andavo a prendersi i cristalli di Bohemia non me ne poteva fregare di meno avevo vent'anni quindi insomma ero poco etico sicuramente però facevo un sacco di soldi il turismo convenzionale chiamiamolo così funziona così cioè non se ne esce cioè è il modo a Matera ci sono dei negozi convenzionati che quindi voglio dire hanno tantissimi turisti e il negozio è a fianco magari di artista bravo uguale artigiano bravo che invece ha i pochi turisti individuali allora noi abbiamo detto beh questo è un problema grosso che abbiamo nelle città d'arte e quindi cosa possiamo fare? possiamo fare appunto una mappa intelligente del perché io te lo consiglio poi ripeto ognuno del libro di andare dove cavolo gli fai io non mi permetterei mai di dove mangiare la stessa cosa a me quante volte mi capita anche appunto il couch surf in stasera mi chiederà dove vado a mangiare ma io posso dirgli di andare da parente se c'è un parente a Matera e gli posso dire di andare da quello più diciamo vicino a casa gli posso dire di andare da quello che magari mi dà i soldi noi preferiamo dirgli quelli dove noi andiamo a mangiare sembra una banalità sembra una banalità qual è il non è una banalità il turismo funziona esattamente in maniera diversa il turismo risposta si può permettere di funzionare così dopo che anche io ho le convenzioni quando porto i gruppi a mangiare ci mancherebbe sono un operatore turistico però è diverso cioè io ti ho scelto prima perché tu mi piaci vengo a mangiarmi che mi trovo bene dopodiché ti guardo quando c'ho dei gruppi mettiamoci d'accordo e non è un problema diventa successiva diciamo una scelta che diventa successiva quindi l'economia che segue diciamo la scelta etica questo è un po' il discorso comunità ospitante l'unico documento dove troverete scritto qualcosa della comunità ospitante è questo qua e io lo trovo molto molto interessante non ci sono i numeri delle pagine ma diciamo che è la terza diciamo lo trovo molto molto interessante perché anche se lo dico da esperto diciamo proprio di comunità locale studio questo è un po' troppo come dire futurista nel senso che al momento attuale queste cose che stanno scritte qua succedono pochissime volte perché non è facile quindi insomma è bene sapere anche i limiti diciamo della teoria se no però è molto stimolante lo trovo molto stimolante cioè nel senso che tutte le volte con la mia associazione abbiamo pensato dei viaggi o abbiamo contattato qualcuno ci è servito molto diciamo questo schema per cercare un po' di capire cosa andare a cercare fondamentalmente quindi voglio dire qui vi invito semplicemente ripeto a leggere non penso ci sia bisogno di soffermarsi su singoli punti dopodiché ripeto ve l'ho dato apposta perché volevo che ve la leggevate un attimo quindi vi do anche ora due tre minuti mentre io bevo per rileggersela un po' e se avete spunti idee o ripeto dubbi abbiamo un quarto d'ora per diciamo dare libera voce a tutto ciò che volete approfondire dico anche che io a luna finiamo ma perché rimangono a mangiare a bari non so se qua si può mangiare qualche cosa quindi se poi qualcuno vuole approfondire qualche singolo aspetto più particolare che non diciamo non appartiene a questo che stiamo dicendo lo possiamo fare tranquillamente se qualcuno già se l'ha iniziato a leggere vuole partire su qua il microfono io ovviamente ho fatto un sunto estremo di quello che facciamo in tre giorni in genere siamo anche molto più interattivi perché ci piace anche proprio mettere alla prova le persone e vedere che tipo di viaggio farete però qua ho visto che siete diversi operatori comunque insomma il livello dell'escrizione era già alto quindi va bene così e spero che anche voi siate diciamo più soddisfatti di quello che ci siamo detti però appunto li vedo questi ultimi 15 minuti li ho lasciati apposta per cercare un poco di interagire su questo che è l'unico documento in Europa che ci dice qualche cosa su come potrebbe essere il turismo responsabile da fare in Italia e in Europa in particolare non ce ne sono altre vai si si iniziamo mentre gli altri riguardo la responsabilità della comunità ospitante appunto il punto 4 è disponibile all'incontro offre adeguata accoglienza rende piacevole il soggiorno nella tua esperienza c'è ci sono state delle comunità che hanno trovato delle attività o dei criteri di accoglienza appunto per rendere appunto piacevole il soggiorno e evitare appunto che il turista o il visitatore sia un corpo estraneo rispetto alla comunità locale sì assolutamente sì tutte le realtà soprattutto quelle appunto citavo prima di turismo comunitario quindi che in particolar modo già o sono o collaborano con comunità locali hanno sempre diciamo un modo di interagire che poi viene preso molto appunto anche dal da attività che non sono prettamente turistiche a me capita spesso ieri avevo un ospite a casa ho detto ah io vado a mangiare in osteria vieni con me era solo una persona quindi non è che gli ho potuto organizzare un evento particolare eccetera però l'idea che tu fai una cosa tu comunità locale fai una cosa magari per te magari quella sera vai a farti una pizza a casa di altri soci perché capita e c'hai dei turisti a casa tua o l'altro socio nel suo bed and breakfast e li inviti poi viene o non viene un fatto suo non è questo il problema però questo sì nel senso che nel momento in cui la comunità locale è attiva sul territorio è facile che abbia anche voglia di interagire con persone con cui però abbia voglia di interagire che poi non è detto che lo debba fare con tutti per legge o per contratto se arrivano due persone antipatiche chi se ne frega non ti propongo niente cioè perché dovrei cioè se tu non mi dai diciamo come dire quella voglia di accoglierti nella mia comunità locale chi se ne frega ti do il servizio e finisce là ti tratto in maniera corretta e finisce là se invece si crea subito diciamo un bel clima in genere succede in tutte queste realtà succede in tutte le realtà che c'è di turismo comunitario dove appunto c'è una comunità locale attiva in quel caso sì negli altri casi è un po' più difficile perché chiaramente se io non c'ho un contatto con la comunità locale c'ho un singolo referente eccetera la cosa diventa un po' meno sotto questo punto di vista un po' meno forte per ovvi motivi anche se volete chiedere qualche altra cosa insomma dico questo della carta perché è un po' particolare ma se c'erano altri dubbi legati a quello che ci siamo detti prima benvenga non ci facciamo problemi vai io chiedevo per quanto riguarda i punti indicati qui nella responsabilità in che modo noi potremmo noi come un operatore potremmo invitare oppure vendere un prodotto e convincere un futuro utente fruttore a scegliere questa tipologia di servizio quale è la riscoperta culturale un soggiorno in una struttura a basso impatto ambientale o a fare un tipo di vacanza o di visita diverso da quello convenzionale specie di stranieri specie la gente anche del posto sì non è una una domanda qui diciamo su cui c'è una risposta facile da dare nel senso che molto spesso è facile confondere le proposte di turismo responsabile anche perché appunto ora molti operatori iniziano a usare questo termine forse qui a Bari non è arrivata ma io ricordo quando abitavo in Salento quindi fino a 5 anni fa sulle tv locali salentine c'era continuamente questa pubblicità di un'agenzia di viaggio fai turismo responsabile con noi fai turismo responsabile e io mi incuriosisco ah che bello vediamo chi sono quindi andai un po' a vedere sul sito di questa agenzia effettivamente parlano del loro modo di intendere il turismo responsabile che prende una parte diciamo del discorso che stiamo facendo che è quello appunto dei soldi alla comunità locale e quindi dicono ti fa rimassaggiare i prodotti tipici vieni a fare turismo responsabile perché ti fa rimassaggiare i prodotti tipici e allora è chiaro che se io turista inizio a sentire una campana di questo tipo facilmente mi confondo ecco perché poi nascono anche i marchi proprio per cercare un attimino se vogliamo di indirizzare c'è un perché insomma sicuramente è una battaglia ancora da vincere questa del come vendere perché mentre nei viaggi nel sud del mondo è molto più facile cioè chi vuol fare un viaggio nel sud del mondo essendo una realtà che non conosce è più facile che si rivolga all'operatore di turismo responsabile oggi oggi è così nel senso che voglio andare in Mauritania per un qualsiasi motivo che mi è girato è andare in Mauritania è molto facile che vado a cercare se ho un minimo di etica la realtà di turismo responsabile voglio andare a fare turismo responsabile che cavolo so a Matera ma in realtà Matera se io sono italiano ci vado più di tanto non ce l'ho come problematica e quindi ci vado è più facile che si vendano i singoli servizi questa è una cosa su cui il turismo responsabile si sta molto interrogando cioè di come erogare singoli servizi bed and breakfast per esempio come fa un bed and breakfast a dirsi di turismo responsabile è una bella domanda la risposta ce la dobbiamo dare nei prossimi mesi nel senso che ci stiamo ragionando assieme con gli altri che fanno parte anche di Etr che dicono noi ci sentiamo responsabili ma e quindi vogliamo entrare giustamente in Etr e ci entrano pure è chiaro che perché è stata come dire l'idea era stata pensata per i viaggi di gruppo e oggi va molto di più il turismo soprattutto in Italia individuale noi dobbiamo riuscire a declinare queste idee che ci stiamo dicendo che queste qui anche sono pensate per viaggi di gruppo ovviamente e non si possono fare tutte e allora dobbiamo capire e non è non è un discorso che stiamo affrontando insieme ai soci di Etr a chiunque abbia interesse come far capire la differenza la singola struttura recettiva ad esempio in Etr ci sono loro molti ostelli sono entrati in diversi ostelli a Palermo a Ferrara in tante altre località e fanno parte di Etr cosa fanno? non vendendo pacchetti turistici e quindi non potendola seguire nel suo insieme questo tipo di carte effettivamente è un po' più difficile insomma è un problema che ci stiamo ponendo è un po' più difficile ed è il motivo per cui entra poi in gioco il discorso della responsabilità sociale d'impresa e altri discorsi cioè la responsabilità sono io che sono responsabile del mio modo di agire visto che fondamentalmente ti do solo un servizio finisce là poi c'è il discorso ambientale in alcuni casi che però ripeto non può essere l'unico per farvi un esempio noi come associazione di vagabondo abbiamo nel nostro circuito alloggi avevamo previsto tre diverse tipologie di attenzione una era quella ambientale è quella più conosciuta poi c'era quella dell'attenzione al sociale cioè noi vogliamo sapere vogliamo sapere da chi vuole aderire al nostro circuito lui per la sua comunità sociale cosa dà sempre nell'ottica che ognuno di noi dà e prende dice tu sei operatore turistico guadagni ci fa piacere cosa dai di tuo diciamo del tuo tempo libero di quello che è per il sociale che ovviamente puoi fare qualsiasi cosa puoi significare semplicemente che hai a casa delle brochure informative di qualche problematica perché mentre io operatore turistico tipo nel turismo responsabile spesso abbiamo la quota di progetto di sviluppo locale cioè una piccola quota del viaggio la destiniamo a un progetto locale che scegliamo però lo fai all'interno di un pacchetto metti il 5% ci sta se viene a casa mia nel mio bed and breakfast qualche d'uno difficile che io dia dei soldi allora appunto abbiamo detto ognuno decide qual è il suo impegno allora c'è quello che è cittadino attivo perché si occupa di far pulire la strada diciamo perché sono sporche lo dici ci fa piacere noi lo comunichiamo sul nostro portale e quindi questa è la parte sociale la terza è quella dell'economia solidale che è una parte di cui vabbè non ho parlato ovviamente per motivi di tempo ma che è molto vicina chiaramente al concetto di turismo responsabile e quindi tutte le realtà che per un qualche motivo si sentono legate al tema dell'economia solidale perché comprono i prodotti a chilometro zero perché vanno al gruppo d'acquisto a prendere prodotti freschi o per qualsiasi altro motivo che secondo loro perché è bello questa cosa secondo me che ognuno dice guarda io faccio questo te lo dico te lo scrivo insomma poi secondo me è un buon modo e venendo la tua domanda mi hai fatto prima nella pausa chi controlla questo ovviamente è un grosso problema noi infatti il circuito nostro faccio l'esempio nostro perché mi viene facile è fermo per questo motivo perché quando iniziò ad andare bene giravano turisti eccetera eccetera iniziarono a contattarci in realtà dal nord Italia fino alla Sicilia che volevano aderire e perché era stato pensato per i luoghi dove noi eravamo attivi perché potevamo andare a controllare controllare non in senso di spezione ma in senso di relazionarci di capire perché sai capita spesso mi è capitato gente diceva colazione biologica effettivamente tu vai e trovi la marmellata biologica poi però il tipo per lui si compra la marmellata iperindustriale che fa schifo allora io mi chiedo che senso ha cioè se tu non sei il primo a credere ceduto che me la vendi a me tanto cioè non me ne frega niente oppure prodotto tipico no che ne so pasta uno c'ha una cosa del prodotto tipico per la colazione i biscotti che ne so fatti e poi però fondamentalmente a lui non gliene può fregare di meno allora ecco che c'è questo problema che esiste che non è facile ovviamente a gestire allora diceva vabbè dove siamo presenti uno va spesso facciamo cene assieme andiamo a mangiare si cercava di fare comunità appunto nel momento in cui ci chiamavano dall'altopiano Lauco dalla Reggio Emilia dalla Sicilia ci aspetta un attimo cioè ci vorrebbe accostare troppo allora l'idea su cui stiamo lavorando è che sia appunto poi torniamo al discorso i viaggiatori cioè che che poi ci dicono com'è andata quindi in maniera molto onesta cioè guarda lui si è autocertificato così non ha senso per noi far pagare dei soldi per una certificazione che vale proprio solo il viaggio eccetera eccetera per ora poi vedremo è il viaggiatore che ci fa sapere se quei parametri che la persona ha detto sono rispettati sempre per una crescita comune cioè a noi ci piace molto l'idea del percorso diciamo verso un qualcosa e non dei parametri standard che rischiano là quindi questi tre sono per esempio nel nostro caso il nostro modo di applicare il turismo responsabile ma ripeto ognuno è libero di pensarli infatti più se ne pensano più poi si può ragionare su quali sono quelli che effettivamente vale la pena tenere e quali non stanno in ciole in terra o sono poco significativi o quel che è insomma altre domande altri dubbi ultimi minuti se no chiudiamo in singola via vai il microfono lì allora ciao a tutti io sono Viria e mi occupo per passione per professione del patrimonio culturale e vedo che in quest'ultima parte c'è scritto più volte rispetto alle responsabilità della comunità ospitante tipo al secondo punto si adopera perché la conservazione dei beni naturali e culturali sia prioritaria nelle politiche di sviluppo turistico oppure più in fondo il penultimo dei punti che si occupa prima della partenza dice cerca di usare le potenzialità della crescente domanda di turismo culturale e per cucire lo strappo tra la vecchia generazione appunto quella quella odierna io penso che in Italia soprattutto ci sia un problema culturale nel senso che il bene culturale che cos'è? sì un monumento un quadro un museo un parco però cioè appunto deve esserci il riconoscimento dell'appunto della comunità locale perché chi decide che quello è un bene non può essere solo uno studioso dice quello è bene lo dice basta dall'alto lo impone no appunto ma c'è scritto anche nei libri insomma che ci deve essere un riconoscimento della popolazione che quello deve essere cioè che è attestato come bene perché testimonia il passato la storia o perché ha una valenza estetica eccetera e credo che questo passaggio è proprio saltato a pie pari perché vabbè un po' perché manca l'educazione insomma nel senso che più che l'educazione è una conoscenza del territorio da parte appunto della comunità un po' perché le istituzioni molto spesso secondo me è colpa loro che decidono che la cultura è noiosa non lo so è una mia impressione è noiosa il museo è noioso perché ci sono dei problemi molto forti nelle visite culturali nelle istituzioni cioè che in Italia sono un po' ottocentesche però in altri stati in Francia in Germania la cultura è divertente perché che cosa cambia? cambia appunto l'approccio sia delle istituzioni ma anche della 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 comunità come per esempio si decide che sia noioso comunque non molto importante il parco di Egnazia che è uno dei parchi archeologici più importanti dell'Italia del mondo anche dopo Pompei ed Ercolano è il più importante però non è così valorizzato addirittura il comune di Monopoli abbia pensato di dare la concessione per farne un parco acquatico che si inaugurerà in questa stagione parco acquatico con scivoli che gioia e a quanto pare i cittadini sono ben contenti di questa attrattiva perché è più divertente lo scivolo è divertentissimo però farlo in un altro luogo cioè far capire che c'è un collegamento non solo con il passato cioè c'è proprio un collegamento tra passato e presente ma anche futuro per esempio faccio un esempio un bene demoettono antropologico come può essere il saper fare i cestini di vimini esatto che si faceva a Bari prima il centro storico di Bari pulava di botteghe ora sono state sostituite tutti da pub molto pub pub non si potrebbero neanche chiamare pub alcuni però ha perso un po' la caratteristica per fortuna ce n'è qualcuno c'è la via delle orecchiette infatti quella è bellissima cioè lasciare un equilibrio anche per chi dà le concessioni tra quello che è l'identità territoriale e culturale e quella che è il commercio anche perché anche quello è una forma di commercio cioè ci si privilegiano delle categorie ci si tu che altro ci si viene calata dall'alto e si è una e si no assolutamente però non si fa nemmeno niente per per discreditare questa cosa comunque questo dicevo questo saper fare tipo il cestino di vimini che è una cosa che è un materiale duraturo che ti di artigianato che ti lascia la frutta e le verdure ti durano di più cioè voglio dire il confronto con la plastica non c'è quindi perché non dare spazio anche a questo è un bene culturale non è solo un artigianato perché è un saper fare che ormai sta andando in declino per dire quindi ci sono come bene culturale non si intende solo un libro un monumento o un quadro appunto ma anche il sapere stesso sì che è molto importante ti dà un'identità che poi secondo me è l'attrattiva turistica sicuramente sì se ben veicolato sì su quello che hai detto ovviamente sono d'accordo però il problema è questo che quando questo ragionamento di per sé va benissimo è un problema molto italiano ce lo ricordiamo il ministro che disse che con la cultura non si mangia qualche anno fa eccetera c'è una come sempre quando un ministro dice una cosa non è una corbelleria vuol dire che c'è comunque un pensiero dietro che comunque pensa a questo in Italia sicuramente l'attenzione ai beni comuni l'attenzione a tutto ciò che può essere il patrimonio demodetro-antropologico eccetera e anche alle tradizioni non è stato certamente ben valorizzato in molte parti in altre parti invece sì il turismo cosa può fare sicuramente può essere diciamo prima veicolo per riprendere certe cose quindi ben venga insomma che in questo caso ci sia il turismo perché poi il turismo funziona molto con un istinto copiativo nel senso che se uno inizia a fare l'artigiano dei vimini per fare l'esempio che hai fatto tu dei cesti di vimini e funziona tu sei sicuro che altri dieci aprono è così ma è sempre così perché essendo un'attività commerciale se funziona diciamo perché il vicino non lo deve fare quindi ha bisogno di persone che danno vita a certi ragionamenti sul discorso dei beni allora vabbè io non farei un discorso italiano perché poi Milano ha uno dei musei scientifici più visitati diciamo che non prendono anche le sovvenzioni pubbliche quelli campano solo di bigliettazioni ci va tantissima gente perché sono persone che hanno fatto un bel museo allora noi abbiamo in Italia da un lato un immobilismo dei musei io ho molti amici che lavorano nei musei a Matera e sono disperati perché le nuove generazioni ti dicono quello che noi dobbiamo fare è far nulla perché se mi stiamo a proporre di fare una cosa gli altri colleghi che stanno andando a non fare niente dicono non si va mai cioè proprio ti viene quella cosa quindi abbiamo purtroppo una cattiva gestione vogliamo dire così di molte situazioni non di tutte perché non mi piace mai generalizzare per fortuna ci sono anche esempi virtuosi però appunto il problema è che le cose si compenetrano allora tu hai un'istituzione che spesso è poco attenta non sapevo questo caso mi dicevi di Ignazia ne conosco tanti altri insomma alcuni per fortuna anche a Letofine mi ricordo in Calabria a Caporizzuto c'era questa colonna storica famosissima la ricordo quando andai vent'anni fa era qualcosa di incredibile come abbandonata ora ci hanno fatto un bel parco invece eccetera quindi ci sono anche storie che vanno a buon fine dipende molto secondo me dalle comunità locali tu mi facci prima l'esempio di Monteverde Monteverde quel castello era un posto che ma vent'anni fa era totalmente abbandonato in Irpina come tanti altri posti nel momento in cui qualcuno inizia a scardinare l'idea che l'abbandono sia normale che il fregarsene di un posto allora ci può essere un riappropriarsi dell'idea del concetto poi quello che ne esce si vedrà forse non lo sa bene la negativa eccetera quello che succede ad esempio a Ignazia questo di Monopoli che non sapevo è molto rappresentativo del fatto che in Italia purtroppo da molti anni da troppi anni rispetto anche a altri paesi europei si pensa solo col soldo in testa cioè noi ragionavamo prima su quali sono i possibili il lavoro che ci può arrivare da una qualsiasi cosa poi magari non arriva a noi pensiamo vabbè comunque crea lavoro cioè questo è il primo ragionamento che si fa non ci preoccupiamo di tutto quello che viene che ne sono le fonti d'acqua facciamo ad esempio molto del sud la Basilicata è piena di fonti d'acqua quasi tutte sono diventate sorgenti che le ditte di imbottigliamento insomma private hanno in concessione i discorsi della gente non è vabbè ma ci avete privato di una risorsa bla 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 e vabbè ma ci fate lavorare è l'unico diciamo cosa che ci interessa neanche capito il ragionamento anche veramente economico di dire vabbè ma tu paghi pochissimo caspio almeno come l'eroe artista del petorio dateci l'eroe artista dell'acqua non si arriva neanche a quello cioè ci si blocca purtroppo in Italia questo è un vero peccato perché soprattutto al sud che non abbiamo come dire una cultura intrisa di economia nel senso che il sud è sempre stato un luogo molto sì ma diciamo anche abbandonato un po' di stile economia fondamentalmente l'economia è sempre fatta nel nord Italia da quando c'è stata l'unità d'Italia fondamentalmente il sud è accampato di assistenzialismo cioè nel bene e nel male non lo voglio dare con un giudizio critico negativo o positivo è un dato di fatto si è accampato di impiego pubblico fondamentalmente le statistiche ancora oggi lo dicono e questo però ha permesso alla gente di come dire la popolazione è sempre sfruttata cioè poco diciamo poco diciamo come dire è sempre sfruttata anche come manodopera sì fondamentalmente non ci siamo come dire al sud non c'è stato mai quel prendersi cura del diciamo di quello che è fuori dal nostro orticello noi abbiamo il problema dell'orticello ripeto i problemi sono i motivi sono tanti non facciamo una lezione diciamo di storia perché sennò esatto cerchiamo di rimanere diciamo sul pezzo come si dice sicuramente al sud c'è una attualmente una capacità minore di essere reattivi su una serie di problematiche che hanno a che fare ripeto con il patrimonio e anche col turismo e che altrove invece si sfrutta meglio l'auspicio è che voglio dire più persone iniziano a porre problemi a far capire che ci sono altre strade e più si può sperare che cambi qualche cosa è un auspicio ovviamente c'è tanto da far microfono microfono un motore di lavoro allora che ristrutturare i centri storici non lo è e che sarebbe un modo di trattenere questi mestieri di artigiani secolari non lo so io sono andato ultimamente nel castello di Conversano c'è questo tipo che vive nel borgo antico che ha degli affreschi spettacolari gli bloccano lui non ha soldi della regione del comune niente lo deve finanziare lui ma gli bloccano addirittura i lavori perché lui deve far lavorare un tal personaggio che è legato alla politica locale vabbè insomma invece di un altro che magari sarebbe anche più bravo io non ho capito perché il parco acquatico porta più lavoro che la ristrutturazione magari dei centri storici non lo so anche lavoro che proprio il discorso della cultura l'attenzione alla cultura in Italia cioè basta vedere o noi abbiamo un ministero del turismo e della cultura sono accorpati i due asset fondamentali dello sviluppo italiano cioè il patrimonio artistico che ci viene invidiato dal resto del mondo noi accorpiamo le due cose tutte insieme che sono sicuramente di pari passo però non si può fare di tutto la stessa erba un fascio ci bisognerebbe avere un'attenzione sulla cultura al turismo e poi svilupparli pareramente ma anche insieme incontrarli in qualche modo quindi l'attenzione che c'è dall'alto è proprio questa nulla cioè nel senso che si pensa di più a risparmiare sui costi sulle cose fondamentali piuttosto che guardare intorno a prescindere poi dalle questioni politiche che chiaramente non ho neanche letto diciamo come è stato nominato l'ultimo ministero quindi non ti rispondo perché non so chiaramente non so se forse è una delega eh esatto sì infatti mi sembra che siamo solo ministeri della cultura che poi c'è una sottodelega penso al turismo che già ha un senso nel senso che la cultura è quello che deve contare la cultura serve per noi che abitiamo nel posto e deve servire anche per il turismo il turismo è responsabile se come dire è qualcosa che si associa a qualcosa che serve a noi che abitiamo nei posti se diventa solo un qualcosa che serve agli altri prima o poi qualche casino succede può essere la spiaggia che non c'è più la spiaggia libera perché bisogna dare tutto a diciamo gli stiabendenti balneari per i turisti esempi che in Salento ne ho viste di battaglie di ragazzi che andavano a fare le firme per avere il diritto alla spiaggia libera nel periodo in cui si era detto che si volevano privatizzare tutte le spiagge allora il problema è sicuramente che è molto locale altrove il senso di bene comune e con tutti gli annessi e connessi delle cose che abbiamo detto il patrimonio del metodo antropologico è molto più forte da noi lo è effettivamente un po' di meno e bisogna farlo sicuramente fare cultura se facciamo cultura ci sarà anche un buon turismo questo è sicuro non nel senso di turismo culturale ma nel senso di un turismo che voglio dire vede sia chi viaggia come dire sia chi poi vive nei luoghi più voglioso di comportarsi in un certo modo se invece si pensa solo al turismo come un'attività commerciale e quindi dimenticandoci la parte dell'esperienza che invece è fondamentale tra l'incontro tra persone e allora chiaramente andremo incontro a tutti quei problemi che abbiamo detto prima e sicuramente molti altri quindi è chiaro che vanno assieme nel senso che prima c'è stata sicuramente la cultura la cultura del luogo di chi vive quindi la passione il rispetto eccetera e sicuramente anche poi delle scelte turistiche che fanno sì che arrivi un turismo che non sia un turismo eccessivamente invasivo di esempi di turismo invasivo in Sud Italia ce ne sarebbero infiniti dove si è voluto semplicemente fare soldi cementificazione e turismo quello è un esempio di turismo totalmente responsabile di cui paghiamo ancora le conseguenze andate nell'alta Calabria o nella bassa campagna nelle coste per vedere l'assurdità diciamo di quello che hanno creato negli anni 70 io volevo concludere il pensiero di prima che mi rallaccio a quello che hai detto secondo me appunto la sensibilizzazione della popolazione viene appunto con la conoscenza se conosco rispetto e tutelo e quindi lo sento mio e quindi tutto il resto che poi va il messaggio anche a chi visita se conosco e se capisco l'importanza del luogo mi è capitato l'altro giorno a Matera due ragazzini io abito nei sassi di Matera sotto casa mia c'è tutto un complesso abbandonato da due o tre anni dei ragazzini che abitano un po' più giù con delle spranghe che hanno iniziato a rompere le finestre di questo posto abbandonato ovviamente io li ho ripresi ho detto ragazzi ma che cacca a parte che mi avete visto è pure scienza lasciamo per e la risposta di questo qui è stato vabbè tanto è abbandonato no cioè abbandono chiama abbandono degrado chiama degrado io al ragazzino cioè lo volevo fare insomma una faccia di pacchi però in realtà aveva più ragione lui paradossalmente nel suo vandalismo nel senso che lui non era altro che faceva un'azione che era figlia del degrado precedente in cui esatto è solo il discorso un luogo pulito è più difficile che io butti una cosa perché? non perché mi obbliga qualcuno perché magari mi viene più facile anche o a me non farlo o se lo faccio a qualcun altro dire scusa cioè questa cosa non la butti se invece non so che tanto è tutto sporco ma chi se ne frega cioè che faccio tu sì e tu no cioè con te mincacchi e con te no lascio perdere e finisce là quindi è chiaro che amare più il proprio posto permetterà un po' tutte le cose quindi conoscenza sì ma anche proprio amore per il proprio terreno ed è una cosa che c'è in alcuni posti cioè io devo dire che i posti dove c'è miglior turismo c'è anche maggior amore diciamo per per il proprio luogo questa è una cosa che ho visto diciamo anche nel sud Italia quindi da meridionale diciamo amo anche far notare ci sono tanti posti dove invece si ama il territorio quindi si vuole che chi viene rispetti quel territorio laddove non amo il territorio me ne frega mi interessano solo i soldi o il divertimento o l'acqua scivolo eccetera 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 spero che vi sia piaciuto buon prosiego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti